Peraltro dopo aver identificato, ignoranti come sono, tutto il popolo palestinese largamente laico e multireligioso con l'Islam, se quella somma di tutti gli orrori che si chiama guerra avesse limiti e regole, questi da cui siamo partiti sono i limiti e le regole della guerra, persino della guerra, che infatti il diritto internazionale, compreso il diritto di guerra, ha fatto proprio, considerando crimini di guerra, uccidere bambini e bambine, commettere genocidio, bombardare gli ospedali, le ambulanze, le scuole, i luoghi di culto, uccidere i porter di guerra o i rappresentanti dell'ONU. Per seguire la polizia etnica. Secondo l'ONU assistiamo al numero più alto di uccisioni di bambini mai verificatosi. Cito, era al massimo di centinaia, in pochi giorni a Gaza abbiamo migliaia e migliaia di bambini uccisi. Tutto ciò è accaduto, anzi accade oggi, in questo momento, mentre parliamo, accade sotto i nostri occhi, con il silenzio, dunque la complicità, di tutti i governi dell'Occidente. In altre città occidentali si è esistito manifestazioni di massa senza precedenti, in Italia non ancora ed è il nostro compito che accada presto anche qui. Il giudizio della storia sarà durissimo verso questa generazione complice dei massacri, per razzismo colonialista e per viltà. Ma se anche la guerra non avesse regole e limiti, la resistenza certamente li ha e li ha sempre avuti. Mai nelle nostre guerre di liberazione sono stati uccisi bambini e bambine. È stato così nei venti mesi durissimi della resistenza italiana, è stato così nella lotta di Cuba per la libertà e in altri mille conflitti per la liberazione. Non si possono uccidere i bambini e le bambine. L'ex ambasciatore di Israele in Italia, Drod Eidar, ha dichiarato testualmente Noi in Israele non siamo interessati a tutti questi discorsi razionali. Per noi c'è uno scopo, distruggere Gaza, distruggere il male assoluto. Se noi volessimo riassumere lo scopo di questo nostro incontro, basterebbe dire che noi vogliamo fare esattamente il contrario di ciò che pensa e che ha detto l'ambasciatore Eidar. Il contrario esatto della sua premessa e il contrario esatto della sua conclusione. Noi vogliamo che si fermi il massacro perché siamo interessati a tutti questi discorsi razionali, come lui dice. Aggiungerei che siamo interessati ai discorsi razionali perché siamo esseri umani. Degno di Drod Eidar è uno dei tanti giornalisti mascalzoni del Capitale, il quale ha scritto su Corriere della Sera proprio per criticare i distinguo, i sé e i ma e per denunciare come terrorista chiunque opera i tali distinzioni. Ma la distinzione è la base necessaria di ogni ragionamento. I fascisti, i razzisti non distinguono, i bruti non distinguono, gli esseri umani dotati di ragioni distinguono, cioè ragionano. Faccio notare che la distinzione fra terroristi e popolazione civile fu praticata anche nel caso dei terrorismi sanguinosi. Di fronte agli attentati dell'Ira in Irlanda non venne in mente a nessuno, nemmeno agli inglesi della Thatcher, di radere al suolo Belfast per distruggere il male assoluto e lo stesso si può dire per l'Eta nei Paesi Baschi, non venne in mente a nessuno, nemmeno ai franchisti, di radere al suolo Bilbao o Guernica per distruggere quel male assoluto. Ora dunque è diverso ed è peggio di qualsiasi altra cosa perché noi abbiamo a che fare con l'introduzione di una pazzesca categoria religiosa come male assoluto. L'impostazione religiosa di quelli come l'ambasciatore Haidar rispecchia la presenza di categorie religiose altrettanto folli nel terrorismo di matrice islamista. E allora in quanto appartengono al male assoluto sono da uccidere anche i bambini e le bambine, quelli che si trovavano nei kibbutz nel sud di Israele il 7 ottobre e quelli che si trovano a Gaza. Il bestemmiatore Netanyahu ha osato citare il profeta Isaia e perfino Coelet a suo sostegno. In realtà da profeta Isaia parlava di lui quando afferma, cito, le vostre iniquità hanno scavato un solco fra voi e il vostro Dio. I vostri peccati gli hanno fatto nascondere il suo volto per non darvi più ascolto. Le vostre palme sono macchiate di sangue, le vostre dita di iniquità. E le vostre labbra proferiscono menzogne. Dunque, ci dispiace per il Corriere della Sera, noi siamo qui esattamente per distinguere, cioè per capire. In quanto comunisti e comuniste noi distinguiamo sempre, anzitutto, i popoli dai potenti che li governano. Ed è questa la base di classe della nostra opposizione a ogni guerra. Sempre volute e decise dai potenti, sempre combattute sofferte dai popoli che ne muoiono. Non dimentichiamocelo mai. Schive Bertolt Brecht, si noti nel 1939, la guerra che verrà non è la prima. Prima ci sono state altre guerre. Alla fine dell'ultima c'erano vincitori e vinti. Fra i vinti la povera gente faceva la fame. Fra i vincitori faceva la fame la povera gente, ugualmente. Occorre distinguere, amassi dai palestinesi, distinguere l'uccisione dei bambini e delle bambine dalla lotta legittima del popolo palestinese, distinguere le ingiustizie e i massacri dell'esercito di Netanyahu e dai coloni in Cisgiordania dal popolo israeliano e ancora distinguere gli ebrei dagli israeliani. E anche fra gli israeliani distinguere gli estremisti di destra, i fascisti che oggi sono al governo, da tanti pacifisti internazionalisti che in Israele si oppongono con coraggio a Netanyahu. Noremmo oggi la testimonianza di una parlamentare sospesa dal suo Parlamento per la sua opposizione alla guerra. Saremmo capire di distinguere e far diventare queste fondamentali distinzioni senso comune nelle masse popolari e nel movimento? È una sfida difficilissima, ma non impossibile. E comunque siamo qui per questo. Naturalmente per capire serve anche ricostruire la storia, cioè capire le cause di questa guerra. Lo faranno certamente meglio di me e tanti dei nostri relatori. Io mi limito a dire che astrarre una guerra dalle sue cause storiche serve solo a renderla incomprensibile, cioè a naturalizzarla, come se fosse un temporale o un terremoto. E ai terremoti non ha senso opporsi. Invece alle guerre sì, ha senso opporsi, anzi è necessario. Essi hanno cause storiche ed economiche, hanno dietro di sé volontà politiche precise e scelte dei potenti. E dunque ciò significa che adesso è possibile e necessario opporsi. E soprattutto è possibile e necessario porre fine. Nella storia di questo conflitto non risalirò troppo indietro al zionismo del secolo XIX, alla Shoah o al 48. Mi limiterò a risalire al 1993, agli accordi di Oslo, fra Israele di Rabin e l'OLP di Arafat. Lì si erano viste le basi almeno per la necessaria e possibile convivenza di due popoli, nella pace e nel diritto. Rabin è stato assassinato da un israeliano estremista, oggi è considerato un eroe dalla destra che ha il governo. Arafat è morto in circostanze misteriose e sospette, ma prima era stato umiliato in tutti i modi e con lui era stata umiliata e delegittimata agli occhi delle masse la NP. Gli accordi di Oslo, peraltro fragili e squilibrati in quanto asimmetrico è sempre stato il rapporto fra occupante e occupato, non sono mai stati applicati. In violazione di quegli accordi e di tante deliberi dell'ONU, centinaia di migliaia di coloni estremisti hanno occupato, protetti dalle armi e dall'esercito, terre palestinesi in Cisgiordania, cacciandoli gli abitanti, sradicando gli alberi, abbattendo le case, monopolizzando l'acqua. A Gaza, ridotta a una prigione a cielo aperto, con la più alta densità abitativa del pianeta, mentre l'OLP veniva sradicata in quanto realtà plurale, laica, composta anche da numerose forze della sinistra, Hamas ha potuto instaurare il proprio dominio, garantendo anche un sistema di welfare e tuttora tenta di islamizzare, prendendo a modello i paesi dominati dai fratelli musulmani, l'intera società palestinese. Nata nel 1987 ha goduto fin dall'inizio di una protezione di sostegni economici che giungevano dai paesi del Golfo ed è stata finanziata indirettamente da Netanyahu con il dichiarato scopo di dividere i palestinesi e di allontanare la prospettiva dello Stato palestinese. Nel 2018 Israele ha addirittura votato una legge che proclama il carattere etnico e teocratico dello Stato, il contrario di ogni possibilità di pace, che ammanta l'estremismo e l'apartheid con la religione per renderli immutabili, a seguire la provocatoria programmazione di Gerusalemme come capitale indivisibile di Israele. Coloro che oggi dicono, come se fosse la cosa più ovvia del mondo, che la soluzione del problema è due popoli e due stati, ora lo dicono anche gli Stati Uniti e quindi anche i loro servi europei come Meloni, dove erano in tutti questi anni? Mentre accadevano queste cose che miravano a rendere impossibile la soluzione di un'entità palestinese a cui garantire continuità territoriale. Questi sono i semi che hanno prodotto gli orrendi fatti che stiamo vivendo e commetteremmo un tragico errore di miopia se ignorassimo i decenni in cui centinaia di migliaia di persone sono state costrette all'esodo e in cui generazioni intere sono nate e cresciute avendo come unico orizzonte quello della guerra, dell'oppressione, dell'umiliazione e dell'occupazione. Oggi l'informazione sembra partire unicamente dal 7 ottobre ma sono dimenticati per esempio di oltre 200 palestinesi di cui 38 minorenni uccisi nel periodo soltanto dal 1 gennaio al 18 settembre del 2023. Se per fare la pace non ci si può scegliere il nemico facendo la guerra accade invece che il nemico si possa in parte costruirselo in base alle proprie esigenze e non c'è dubbio che se la politica e finanziamenti di Netanyahu hanno rafforzato Hamas è anche vero che le azioni di Hamas hanno rafforzato le posizioni più estremiste in Israele e questo terribile circolo vizioso continua e si alimenta ogni giorno. Come si può fare a romperlo? Possono contribuire in qualche modo a spezzarlo gli internazionalisti italiani ed europei? E questa è la domanda per noi centrale che rivolgiamo ai nostri interlocutori di oggi. Torniamo alla base di ogni ragionamento. Non si possono uccidere i bambini e le bambine. Se dobbiamo scartare la scusa comoda e colpevole della follia dobbiamo capire che per quanto ciò sia ribugnante quale scopo se ne esiste uno perseguivano e perseguono coloro che uccidono i bambini e le bambine. Pur a prescindere dalle decisive motivazioni morali e giuridiche era infatti del tutto evidente che anche agli assassini che uccidere i bambini e le bambine comportava per loro dei danni gravissimi. Per Hamas era evidente che uccidere i bambini e le bambine comportava un alto prezzo di sofferenza per il popolo palestinese e che quel crimine sarebbe stato usato per legittimare l'apartheid, l'invasione e i massacri. Ma pure per il governo di Israele procedere ai massacri di Gaza comporta oltre alle perdite di vita umane anche una catastrofe politica internazionale senza precedenti. incrementa l'odio e il rifiuto del mondo intero lasciando Israele sola con il suo padrino padrone americano. Come sono rimasti soli questi due stati su 188 stati dell'ONU a votare insieme per il mantenimento del criminale bloccheo contro Cuba. Soprattutto ciò che sta facendo il governo di Taniao, il più nazionalista, religioso e fascista della storia di Israele, si rivela assolutamente catastrofico se si guarda al dopo. Non a caso questo dopo non compare mai degli interventi suoi e dei suoi sostenitori. O costoro pensano davvero alla soluzione finale, cioè allo sterminio sistematico di tutti i palestinesi a cominciare a non pensano a questo esito terribile o semplicemente non lo ritengono materialmente possibile. È del tutto evidente che questo mese di massacri ha rafforzato enormemente Hamas e la prospettiva di un odio senza fine, senza limiti verso Israele. Chiunque può capirlo guardando gli occhi dei bambini che vengono estratti ancora vivi dalle macerie, magari unici superstiti della loro famiglia sterminata. Il governo di Taniao sta seminando un'intera generazione di nemici di Israele pronti a tutto, altro che eliminare Hamas. L'esito di questa semina sciagurata non può che essere prima o poi la catastrofe anche per Israele, non solo per la Palestina. Mi permetto di dire a un passant che questo dovrebbe spingere gli amici di Israele e la diaspora ebraica a schierarsi per la pace, come è accaduto negli Stati Uniti, e non a subordinarsi agli ex fascisti e ai fascisti nell'invocare in obbedienza al padrone americano sempre più guerra e sempre più massacri. Ma domandiamoci allora perché questi crimini simmetrici che si alimentano a vicenda sono stati commessi se essi oltre che criminali erano e sono anche del tutto controproducenti rispetto a qualsiasi obiettivo politico sensato? Una risposta possibile consiste nell'orrendo miscuglio che è stato operato fra politica nazionalista di potenza e religione. L'integralismo religioso non si cura delle conseguenze, esso innalza la blasfema bandiera Deus Vult, la bandiera dei crociati, capace di condurre alle peggiori catastrofi, come la storia dei secoli ha più volte dimostrato. Quando Dio e la guerra si uniscono, la guerra diventa Dio. Ma perché mai questo è potuto accadere proprio in questo tempo del ventunesimo secolo? Io credo che per capire qualcosa è necessario capire che siamo in guerra, che il mondo è in guerra e questo è il vero legame che esiste fra la guerra russo-ocraina e quella israelo-palestinese, non il gossip spionistico di cui parlano i propagandisti atlantici. La guerra è l'esito possibile, l'unico possibile, che l'imperialismo riesce a pensare e praticare a fronte della sua crisi irreversibile. Lo ha esplicitato il documento della Presidenza americana sul secolo americano, che afferma la necessità degli Stati Uniti di governare il mondo. La verità è che il capitalismo a guida americana non ha più margini egemonici, cioè non può risolvere nessuno dei problemi aperti di fronte all'umanità associata e anzi li aggrava tutti, a cominciare dalla crisi ecologica che distrugge il pianeta e dalla crisi sociale di disoccupazione e fame. E dunque il dominio del capitale si manifesta ora in forma, per così dire, pura e assoluta, in forma di guerra. L'Occidente capitalistico in crisi ha dichiarato guerra al mondo e la terza guerra mondiale è cominciata. D'altronde il capitale finanziario non ha più alcun compromesso da fare con il lavoro salariato e per questo ha soppresso ogni patto socialdemocratico col lavoro e come a livello internazionale per tenere fermo un insostenibile comando unipolare è stata soppressa da ogni mediazione della politica fra gli stati del mondo, a cominciare dall'umiliazione dell'ONU. Così anche nei nostri paesi è soppressa di fatto la democrazia, è marginalizzato e criminalizzato il conflitto di classe, si vietano gli scioperi, si manganellano gli studenti, si provvedono anni di carcere per i blocchi stradali e così via. Sul piano internazionale questa fine dell'egemonia del capitale e il suo trasformarsi in domino assoluto prende dunque la forma della guerra, anzi delle guerre, che devono essere e sono sempre più numerose, sempre più sanguinose, sempre più interminabili, giacché, come è stato apertamente teorizzato negli Stati Uniti, sono queste le guerre che garantiscono meglio i profitti del capitale, delle industrie di armi e dell'apparato industriale militare, nonché il controllo USA sull'Europa serva della von der Leyen. Questo nesso essenziale che lega la guerra al capitalismo in crisi è ciò che mette all'ordine del giorno il problema della fuoriuscita dal capitalismo, che per noi è la prospettiva del comunismo, anche perché quello che succede rende del tutto attuale presente, vorrei insistere su questo aspetto, la prospettiva della guerra atomica, cioè della fine della presenza degli uomini e delle donne sulla terra. E non a caso di uso della bomba atomica ha parlato apertamente Zelensky, così come qualche giorno fa un ministro israeliano che ha proposto di usarla contro Gaza. Ci resta da considerare, e sto concludendo, il più odioso degli argomenti a cui non vogliamo sottrarci in alcun modo, l'accusa di antisemitismo. Certo per tutti noi è la più abbietta e insopportabile delle accuse quella che ci proviene da gente che rivendica fin dal suo simbolo la continuità con i fascisti di Salò e che intitola strade e piazze al redattore della difesa della razza. Noi comunisti e comuniste siamo gli eredi diretti di chi i nazifascisti li combatte e li sconfisse con le armi in pugno. Ma senza dover risalire alla resistenza, anche la nostra generazione ha affrontato anche fisicamente i fascisti che inneggiavano a Ittero e Mussolini, combattendo in loro l'antiseminismo che costoro professavano apertamente. Dunque non c'è chi non veda cosa proviamo noi oggi a vedere quelle stesse facce, quegli stessi nomi del frattempo assurdi al governo e al sottogoverno del paese, darci lezioni a proposito dell'antisemitismo. Ma ci ho detto, bisogna sapere che, come dice ancora Brecht, il ventre della bestia è ancora fecondo e che l'antisemitismo, questa secolare diffusa malattia dell'occidente cristiano, è sempre latente come un virus mortale. Oggi esso è rafforzato dalla guerra e dalla mancanza di quelle distinzioni che posso richiamare. La distinzione fra ebrei e israeliani, fra israeliani e governo di Taniao, fra popoli e potenti e così via. Contro questo virus noi non possediamo ancora il vaccino, ma possediamo almeno i test per individuare chi ne ha affetto. Ad esempio dire, come ha detto la Meloni, che la pandemia è stata provocata dall'usuraio Soros, si noti la qualifica di usuraio, è un segno certo di antisemitismo, che evoca la narrazione fascista del complotto demo-pluto-giudaico. Questa stessa narrazione tossica e falsa vive però anche in chiunque a comune, in un'unica categoria, tenuta insieme da chissà quali misteriosi legami, Noam Chomsky, il nostro partigiano di Via Rasella, Mario Fiorentini, Umberto Terracini, il negoziante ebreo sotto casa, il banchiere Rothschild. Ma si noti escludendo dalla critica tutti gli altri banchieri più o meno cristiani. Come disse Bebel, l'antisemitismo è il socialismo degli imbecilli. E allora dobbiamo domandarci, esistono degli imbecilli anche delle nostre fila, nel movimento, nello stesso partito nostro? La domanda è necessaria e la risposta non può essere banale. Questo dunque è un fronte di battaglia politico-culturale di lotta all'antisemitismo che Rifondazione Comunista ha aperto e intende perseguire con forza. E ringrazio il compagno Acerbo che ha recentemente tradotto e riproposto un importante e documentato articolo sul problema dell'antisemitismo in rapporto alla terza internazionale. Ho imparato lì che, su proposta del bolshevico Eugenio Preuvageschi, al primo congresso dei Soviet del giugno 1917, fu approvata all'unanimità da oltre un migliaio di delegati, rappresentanza di milioni di operai, contadini e soldati, una mozione che incaricava, cito, tutti i Soviet locali a svolgere un implacabile lavoro di propaganda e istruzione fra le masse al fine di combattere la persecuzione antisemita. Ma la mozione avvertiva anche del grande pericolo rappresentato dalla tendenza dell'antisemitismo a mascherarsi sotto slogan radicali. Studiamo quell'articolo, facciamolo nostro, facciamolo circolare, facciamo nostra questa mozione dei Soviet, sapendo che la conoscenza è sempre l'antidoto più efficace contro ogni razzismo. Ho concluso, non spetta certo a noi indicare la via delle soluzioni, ciò che compete in primo luogo ai compagni e alle compagne che vivono l'oppressione e la guerra. Qui ci limitiamo a ribadire il minimo su cui occorre convergere tutti e subito. Immediato c'è stato il fuoco, apertura di una vera trattativa di pace, liberazione degli ostaggi, quelli israeliani in mano da masse e quelli palestinesi in carcere Israele, a cominciare da compagno Barguti. Cessazione immediata degli insediamenti in Cisgiordania e il loro progressivo smantellamento. Fine delle violenze dei coloni. Prevalgano le umani ragioni che impediscono di uccidere i bambini e le bambine. Grazie Raul. Andiamo ad iniziare con i nostri ospiti. Prima però proprio perché ci troviamo alla Casa Internazionale delle donne, riprendendo anche quello che Raul ha appena detto, io vorrei che da questa sala venisse un ricordo, un applauso per Giulia Cecchettin, l'ultima delle vittime di femminicidio a soli ventidue anni e perché purtroppo anche in questo paese dove la guerra sembra non esserci poi una qualche forma di guerra in realtà c'è anche qui. Quindi do la parola a Rosa che oggi modererà con me con la sua grande esperienza. Grazie. Grazie. Buongiorno a tutti e a tutti. Abbiamo e ringraziamo naturalmente per l'introduzione Raul Mordenti che ha in un qualche modo, almeno da un certo punto di vista, come dico io, apparecchiato una possibile discussione. E quindi passiamo immediatamente agli interventi che sono tanti e tutti interessanti. Dando la parola a Giuseppe Cassini, ex ambasciatore in Libano e firmatario dell'Appello per il cessato il fuoco, insieme ad oltre 3.000 accademici. Tanto vorrei ringraziare Roberto per avermi invitato qua oggi. Parlerò solo 5 minuti e dopodiché se qualcun altro volesse fare qualche domanda specifica dal punto di vista tecnico, essendo diplomatico, forse sarebbe più utile di quanto vorrei dire io ora. Intanto in quei 5 minuti vorrei ricordare che il momento in cui stavo insieme ad altri cercando di compitare l'Appello per la pace, quello che mi veniva in mente come flash, era una gita che avevo fatto nel 1960-61 tra Gerusalemme e Betlemme, a piedi, 13 chilometri, in mezzo a degli ulireti centenari che oggi sono sradicati e ho ancora le foto di cos'era la bellezza toscana di quella parte di Israele e Palestina. Bene, 13 chilometri a piedi, avevo messo meno tempo a piedi a farli che l'ultima volta in cui sono stato da Gerusalemme a Betlemme con la macchina diplomatica. Quindi malgrado la targa diplomatica ho messo più tempo andando in macchina che a piedi. Questo la dice lunga sulla impossibilità pratica di continuare a vivere in una situazione in cui c'è un muro alto 8 metri che gira attorno a tutte le zone fertili in modo che rimangano dalla parte israeliana e lasciano il resto a 4-5 poveracci che devono cercare di far di zappare quel poco che resta della fertilità di quel paese. l'unica persona che non ha visto quel muro è stato Berlusconi quando è andato a Betlemme e un giornalista gli ha chiesto ma l'ha visto che cos'è quel muro? E lui fa muro? Io non l'ho visto. Ci vuole una faccia come quella per negare la realtà ma la negazione della realtà è qualcosa che in realtà proviene da almeno 70 anni di storia, di impunità perché è la parola chiave da cui poter iniziare qualsiasi dialogo, la impunità di un paese che molti si ostinano a confondere con l'ebraismo. Israele è un paese come gli altri e come tale può essere giudicato e deve essere giudicato. Bisogna ricordarsi che ormai dal tempo della prima guerra tra Israele e i paesi arabi è stata da quella del 56. Israele aveva deciso in quel momento, aveva preso una decisione che è stata letale in seguito. Siccome i francesi e gli inglesi volevano difendere il loro diritto tra virgolette di possedere il canale di Suez dato che l'avevano fatto loro cento anni prima hanno distrutto bombardando una città con 5.000 morti Suez e gli israeliani invece di essere neutrali hanno contribuito tecnicamente e militarmente a questo brobrio. Ma all'epoca c'era ancora in America un presidente come Eisenhower che ha bloccato gli inglesi, francesi e gli israeliani dicendo stop. Bene, quella è stata l'ultima volta in cui gli americani hanno detto una cosa vera, breve e sono stati obbediti. Da quel momento in poi è successo questo continuo sviluppo di una impunità che ha fatto in modo che Israele sia il paese che ha subito più condanne all'ONU ed è quello che più se ne è fregato. arrivando fino al punto, e qui chiudo, da dotarsi di bombe atomiche tattiche senza neppure passare attraverso le regole della Convenzione Internazionale sul nucleare del 67. Questa continua impunità ha fatto sì che oggi per srotolare di nuovo la storia occorreranno anni e anni di saggezza da parte di un popolo che temo l'abbia persa. Io ringrazio per l'attenzione e poi semmai ne riparliamo. Grazie. Grazie. Ora, gli interventi previsti sono davvero tanti e così come già abbiamo accennato agli oratori, la parola, ognuno cerchi di concentrare il più possibile il proprio intervento e noi segnaleremo quando magari è bene avviarsi alla conclusione. Ora diamo la parola a Youssef Salman, presidente della comunità palestinese di Roma e del Lazio e medico della Mezzaluna Rossa. Buonasera a tutti, grazie a tutti voi per l'organizzazione di questa interessante e importante iniziativa. Buonasera, certo che saluto e ringrazio tutte le compagnie e compagnie delle fondazioni per tutto quello che hanno fatto e in passato continuano a fare. Di quale mondo che vogliamo parlare stasera? Io credo che ormai, io una volta lo chiamavo, potremmo chiamarlo... Questo mondo ormai è diventato una giungla dove il forte può mangiare anche il deboli, però ultimamente ho cominciato a usare un altro termine, quello del manicomio, perché sinceramente quello che sta accadendo in questi ultimi tempi, in questo mondo, l'ho reso veramente fuori ogni controllo, ogni logica. Non lo so dove vogliono arrivare, quelle che decidono purtroppo nella passività della maggioranza assoluta degli uomini, degli esseri umani, però credo che un studio svedesi ultimamente parlava di 39 focolai di guerra di tensione e di violenza nel mondo e qualcuno spesso si chiede, ma stiamo per entrare nella fase della terza guerra mondiale, però io credo che la terza guerra mondiale moderna è questa qua, dove ogni diritto viene violato, viene saltato, ormai la forza di questi potenti che ci costringono a vivere una situazione che nessuno di noi vuole. Però comunque cosa sta succedendo a Gaza in Palestina in questi giorni? Ultimamente tanti avranno letto, avranno sentito che hanno scoperto dei grandi giacimenti di gas e di petrolio sulla costa di Gaza, però io posso capirlo, infatti credo che tutti l'abbiamo capito, che il Presidente Biden al terzo giorno del conflitto si presenta in Israele, non per dire fermatevi, cerchiamo di fare la pace, cerchiamo di fare le centinaia e centinaia di risoluzioni delle Nazioni Unite, rispettiamo la legalità internazionale, no, ma andate avanti e noi siamo con voi. Israele si difende, ma come si fa? Dalla mattina alla sera certi politici, certa classe politica e certe classe anche di questi giornalisti, di questi responsabili che credo che il loro obiettivo, la loro missione, devono portare la verità, raccontare la verità di ciò che sta accadendo invece, vediamo tutta una serie di falsità, di epocresia che non finisce mai, ma uno si difende a casa sua, non a casa degli altri. Israele occupa tutta la Palestina da più di 75 anni, non solo viola un diritto al polo palestinese da 75 anni, ma nega nemmeno la sua estensa e lo dicono davanti a tutti, non lo so se parlato, grazie Raul, quando hai parlato di questo Ministro della Defesa, che davanti a tutto il mondo, niente acqua, niente cibo, niente medicinale, a quelli di casa, e tutti sì, ma come si fa? E' quello che parla anche della bomba atomica e di tutte queste dichiarazioni, ma è possibile? E questo Israele, bisogna continuare a trattarlo in questa maniera vergognosa, al di sopra di tutto, di tutti, al di sopra di tutte le regole, di tutte le leggi. Ci sono, come dicevo prima, centinaia e centinaia di risoluzioni ONU, 87 risoluzioni del Consiglio di sicurezza, 87. Saddam Hussein ha violato solo una. Voi avete visto cosa è successo in Iraq, hanno invaso l'Iraq, hanno occupato l'Iraq, hanno distrutto l'Iraq e due milioni di iracheri, hanno perso la vita. E nessuno ha pagato per tutte queste falsificazioni che hanno raccontato gli americani quando Colin Powell parlava di queste, lo so, armi di massa, distruzioni di massa. E quindi noi, come palestinesi, io ci tengo molto a dirlo, ripeterlo sempre, fino alla noia. Non abbiamo mai lottato contro gli ebrei perché sono di regione ebraica. Gli ebrei sono i nostri fratelli, con loro abbiamo vissuto per secoli, e vogliamo continuare a viverci oggi e domani. Nemmeno tutti gli israeliani sono nemici del polo palestinesi perché ci sono anche degli israeliani che vogliono vivere con noi in santa pace, in santa sicurezza, riconoscendo legittimi diritti del polo palestinesi, come tutti gli altri. Purtroppo sono pochi. Noi abbiamo con queste che la maggioranza che ha governato lo Stato d'Israele sin dalla sua nascita, a prescendere il governo di destra o di sinistra, fino ad oggi, che hanno basato tutto su questo, perché io spesso le dico, finché si tratta di politica si può discutere, si può litigare, però alla fine una soluzione politica viene fuori. Però quando ti dicono questa è la terra promessa da Dio al suo popolo eletto, lì ti chiudono tutte le porte, non si può più discutere. È questa la realtà. È questa la realtà che noi abbiamo. e nessuno, ormai, spero che tutti avranno capito, ma per quale motivo che gli Stati Uniti d'America ogni anno, da quando è nato Israele, pagano 4 miliardi e 200 milioni a fondo perduto. Tutte le armi più sofisticate, più moderne, vengono fornite all'esercio israeliano per essere usati. Abbiamo visto ormai a Gaza, la Palestina, un campo di sperimentazione per queste armi americane in mano degli israeliani. Vengono usate prima che li usa l'esercito americano o quelli della NATO. Appena che c'è una risoluzione di una eventuale condanna alla politica criminale dei governanti israeliani, c'è sempre il veto degli Stati Uniti d'America. Allora, cosa dobbiamo fare? A me ci dispiace molto perché il nostro grande Arafat ha sempre parlato di questa Europa. Era la sua speranza. E purtroppo è stata una grande delusione e tuttora, tuttora. Ma è possibile? Tutti questi politici italiani, europei, appena che venga rivolta la domanda ma qual è la soluzione del conflitto? Tutti in assoluto. Ti dico, due Stati per due popoli. Però avete riconosciuto lo Stato di Israele 75 anni fa. Ma perché non riconoscete lo Stato di Palestina? Noi abbiamo questa situazione. Comunque io non voglio allungarmi. Ormai è tutto davanti a voi. E l'ha detto bene, Raul, sulla situazione. Però noi abbiamo lottato, lottiamo da più di un secolo. Questa questione non è nata ieri o l'altro ieri come qualcuno voglio fare immaginare che è nato il 7 ottobre. No, ogni due o tre anni è un disco che si ripeti. Abbiamo lottato, continuiamo a lottare da più di un secolo però per avere, affermare il nostro diritto alla vita come tutti gli altri popoli del mondo siamo disponibili a lottare anche altri cento anni, un altro secolo e noi diciamo in poche parole per concludere gli israeliani si scordano. Non lo devono nemmeno sognare. Vivere in santa pace facendo accordi di pace con tutti i paesi del mondo arabo. L'Arabia Saudita, il Marocco, il Bahrain a parte che non sono mai stati in guerra, finito. E quindi, però, finché non viene risolta la questione palestinese, il problema palestinese non potranno mai vivere o vedere un giorno di pace. Per questo non si può parlare di pace senza giustizia come non si può parlare di giustizia senza diritti del popolo palestinese. E' questo che noi stiamo chiedendo e credo che prima o poi avremo anche noi questo diritto sacrosanto a vivere sotto il sole come tutti gli altri. Perché io concludo con questo. Non è mai stato sconfitto un popolo che lotta per la libertà e la giustizia nella storia umana. E il popolo palestinese sarà vincente prima o proprio. Grazie a Youssef. Ora diamo la parola ad Ali Rashid, giornalista palestinese, ex parlamentare italiano. Grazie a Youssef. Buonasera amici e compagni. e malgrado l'occasione sono felice di rincontrare molti compagni, molti amici che da tempo non ci vediamo. E non saprei veramente da dove iniziare. Sono giorni quasi 42 adesso che siamo inchiudati di fronte a queste immagini che corrono veloce e che col tempo acquisiscono maggiore crudeltà è follia perché non trovo altre parole per definirle. Due milioni di esseri umani sottoposti a questa condizione drammatica, tragica donne e bambini uomini grandi piccoli trattati in questo modo e sottoposti ha una inenarrabile condizione ed è difficile che le parole arrivano a descrivere quello che sta avvenendo in Palestina. Le macerie, la mità delle case distrutte, migliaia di bambini, di donne e soprattutto non c'è più un posto sicuro dove la gente potesse rifugiarsi. E questa situazione accompagnata da una narrazione di parte che nell'Europa civile una cosa simile non era neanche immaginabile nella storia di questo paese c'erano i partiti, c'erano le forze politiche, alcuni sono per la libertà, per l'indipendenza dei popoli, altri sono contrari, c'era una dinamica diversa, c'era un giornalismo le parti sociali e politiche avevano anche i loro giornali che potevano tutto sommato darti una lettura più vicina possibile alla realtà. Oggi tutto questo scompare completamente e l'Europa, l'Occidente perde un pezzo molto prezioso della sua storia e del suo avvenire e quindi questa è la prima cosa che vorrei sottolineare e atterrare l'attenzione dei compagni e amici presenti. Forse anche noi abbiamo delle responsabilità perché le cose si sono trasformate in questo modo. Anche se per la questione palestinesi fu sempre narrata raccontata dagli altri e la propaganda ha sostituito la storia. La storia della Palestina è stata scritta attraverso la propaganda e quando i primi storici israeliani hanno messo mano sulla questione sono venute delle cose inaspettate da parte di di razzo stai inaspettate Da chi si oppone a questa guerra è quella di dar voce ai palestinesi e di tentare di correggere le cose come possono avvenire. I grandi mezzi di informazione ormai sono al di fuori della nostra portata ma io credo che incontri di questo tipo possiamo fare più spesso non solo per discutere di Palestina ma anche per discutere di Italia e di molte altre questioni aperte. Scusatemi se vorrei essere più schietto, più chiaro e se noi ci facessimo la domanda ma da dove viene tutto questo? Tutta questa violenza, tutta questa arroganza, tutta questa leggerezza nella violazione degli diritti più elementari che avrebbero dovuto regolare la convivenza pacifica e civile tra i popoli. Sicuramente viene da lontano, dalla età tribale ma anche dal Medioevo e dalla nascita degli stati nazionali, in modo particolare qui in Europa. Io vorrei ricordarvi soltanto alcuni dati che possono essere anche materia di una discussione e riflessione futura che forse stasera non possiamo fare. Papa Clemente II, Urbano II e quando ha dato inizio alle cruciate ha detto che quella guerra Dio la voleva e quando i cruciati sono entrati a Gerusalemme hanno sterminato 70.000 che erano tutti gli abitanti di Gerusalemme due terzi di loro erano cristiani col grido Dio la vole. Nel 1876 fu convocata la conferenza di Berlino che è un cavolo di bibliografia occidentale e l'oggetto era come spartire l'Africa. Il Congo toccata al Belgio e la Germania doveva trovare qualche posto ancora vacante perché il colonialismo inglesi e francesi erano già presenti sul posto e quindi si erano avevano una presenza commerciale nel Cameron e hanno dovuto accontentarsi della Namibia e della Tanzania che allora si chiamava Tangenica. Addirittura il Belgio ha dato il nome del Congo Libero il suo progetto si chiamava il Congo Libero ma non era libero per la sua popolazione era libero per gli scambi commerciali delle potenze europee che hanno covato il continente senza Dugana zona franca dopo 20 anni di colonialismo belga in Congo il numero degli abitanti è sceso da 20 milioni a 10 milioni in Tanzania è avvenuta una cosa molto simile perché le tribù abitanti della Tanzania si sono occupati alla occupazione tedesca naturalmente vennero chiamati terroristi e erano asserviti al lavoro 4 e il 70% della popolazione fu ucciso e tutta questa materia era anche in qualche modo ordinata governata dal diritto internazionale che era il diritto delle potenze dominanti nel mondo e non a caso questo è avvenuto nel 1986 dorato fino all'inizio del 900 che nel 1897 nasce l'idea di creare un stato nazionale per gli ebrei il primo congresso sionista e non a caso che loro hanno definito Palestina un popolo senza terra gli ebrei Palestina una terra senza popolo gli ebrei un popolo senza terra quindi la questione è semplice ma questo era all'ordine del giorno disumanizzare l'altro e dare soltanto una risposta tecnica militare alle grandi questioni e questa logica questo modo di vedere di gestire naturalmente con lo sviluppo della tecnica che oggi può fare molte cose chi possiede la tecnica può fare quello che vuole anche il racconto che viene fatto è molto tecnico e quindi compagni amici in attesa di un'altra occasione per poter riflettere a fondo sulle questione vi saluto e vi ringrazio a tutti grazie grazie davvero tanto ad Ali Rashid chiedo scusa se ho sollecitato ma abbiamo tanti interventi e adesso abbiamo un collegamento quindi io solleciterò mi spiace perché naturalmente ogni intervento andrebbe diciamo arricchito di tempo il più possibile ma siamo davvero in tanti ora passiamo la parola a Manu Pineda parlamentare europeo dell'EFT che è in collegamento giusto? sì ola 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 se mi oye buonasera 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 abbassiamo un momento il volume è altissimo prova ola ola è molto alto abbassiamo il volume ci dia un secondo per abbassare il volume riproviamo prova non ci sei prova ciao ola 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 perfetto grazie grazie ola buonas tardi a todas e a tutti in primo luogo molti grazie a compagniare e compagni di Refundazione per montare questo evento tan necessario e opportuno in questo momento e un special agradecimento per permitirmi partecipare come si sente habla habla si sente sigo si si grazie ah facciamo la la traduzione simultanea o voi parlando para che me traduzca parate para che te traduzca vale innanzitutto grazie a tutte e a tutti per questo invito grazie alle compagni e compagni di Rifondazione fighe Manu si bueno estamos asistiendo no solo a un genocidio la franja de Gaza sino al entierro de de la apariencia de derecho internacional osea el derecho internacional que conocíamos hasta ahora si esto sigue como va sin que haya una respuesta que lo pare inmediatamente y que además juzgue a los responsables de este genocidio podemos decir que ha muerto este derecho internacional y que se impone la ley de la selva la ley del más fuerte allora innanzitutto dobbiamo dire che stiamo assistendo non soltanto a un genocidio nella striscia di Gaza ma anche alla morte alla tomba del diritto internazionale come l'abbiamo conosciuto fino ad oggi senza che vi sia una risposta che fermi e giudichi il massacro che c'è in corso il genocidio che c'è in corso il diritto internazionale è morto e varrà solo la legge della giungla del dia 7 di ottobre se sta violando de forma clarissima e ademà sin careta sin maquillaje se sta violando todo il diritto internazionale desde la imposizione di un assedio medieval sopra la franja di Gaza in cui si impide l'accesso a 2.300.000 persone che sopravvive allì a servizi tan basicos come l'elettricità lo alimento l'acqua la medicina o il carburante questo è un delitto di guerra dal 7 di ottobre questa cosa si sta vedendo in maniera chiarissima anzi diciamo senza nessun nessun modo di nasconderla senza nessun trucco tutto il diritto internazionale è violato a partire dall'imposizione di un assedio medievale alla striscia di Gaza in cui non viene dato accesso a 1.300.000 persone ai servizi basilari come acqua cibo medicina questa è una vera e propria forma di guerra Israel non si va escusando in nada non va buscando non va buscando ninguna justificazione per questo Israel sta cumplendo un'agenda però i defensori di Israel si stanno parlando si stanno ponendo escusa una escusa tan banale e insultante e grossera come il derecho all'autodefesa Israele non si sta scusando per nulla non sta mettendo non sta ponendo nessun tipo di giustificazione Israele sta seguendo un'agenda precisa ma quelli che sono invece i difensori di Israele si stanno nascondendo dietro la scusa del diritto dell'autodefesa però il delito però è che bombardear hospitali è defenderse bombardear colegios della ONU è defenderse matar a più di 100 lavoratori della ONU è defenderse matar a più di 50 periodisti è defenderse bombardear viviendas civili matando 16.000 persone quasi la mitad de ellos eso è defenderse ma bombardare ospedali è difendersi bombardare le scuole delle Nazioni Unite è difendersi uccidere più di 100 operatori della UNRWA è difendersi uccidere più di 50 giornalisti è difendersi bombardare le case in cui vivono civili con 16.000 morti di cui più della metà bambina è difendersi israel non si defende israel aggrede israel è l'occupante il che si può difendere e può resistire con plena legittimità del derecho internazionale e delle risoluzioni della ONU è il pueblo palestino il pueblo palestino come pueblo occupato si tiene derecho a difendersi dell'agressor però israel non si difendendo israel sta llevando a cabo un genocidio sobre il pueblo de Gaza sobre il conjunto del pueblo palestino pero muy especificamente sobre de Gaza quello quello che israele non si sta difendendo israele è l'occupante quelli che si stanno difendendo e stanno resistendo con pieno diritto a farlo anche in base alle risoluzioni ONU è il popolo palestinese il palestinesi tutto i palestinesi hanno diritto a difendersi e quello che sta facendo israele è contro Gaza e contro i palestinesi quello che appunto i palestinesi sono quelli che hanno il diritto a difendersi israele non è l'unico responsabile di questo israele non potrebbe fare questo senza il patrocinio degli Stati Uniti e senza la complicità della Unione Europea israele però non è l'unico responsabile di quanto accade israele non potrebbe fare questo se non avesse il patrocinio degli Stati Uniti e dell'Unione Europea no no puedo pero disculpa es que estoy con la niña que que la presidenta von der legend ha estado allí en Israel diciéndole a Netanyahu al presidente Erzo al ministro de la guerra israelí que cuentan con el apoyo de la Unione Europea y lo ha hecho pocas horas después de que el presidente Erzo dijera que en Gaza no hay ningún inocente no hay ningún civil que los 2,3 millones de personas que viven allí son objetivos militares poco después de que Netanyahu dijera que le iban a aplicar al pueblo palestino lo que ya le aplicaron a los malequitas y que fue acabar según un pasaje de la biblia acabar con toda forma de vida de la que no se podrían excluir ni a niños ni a mujeres ni ancianos ni siquiera a los burros ni a los perros y está diciendo que eso mismo van a hacer sobre la franja de Gaza y también pocas horas después de que el ministro de la guerra le dijera a los militares israelíes que tenían carta blanca que hicieran todo lo que tuvieran que hacer que no iba a haber ninguna corte ni militar ni civil que los juzgara che son tutti obiettivi militari netanyahu che vuole applicare al popolo secondo lui quanto dice la bibbia farla finita con ogni forma di vita bambini donne anziani asini cani qualunque tipo di forma di vita e di dire che e ha detto che tutto ciò che verrà fatto a Gaza ha detto che il ministro della guerra ha carta bianca e che non ci sarà nessuna corte né militare né civile che li giudicherà per quello che faranno è evidente che la Unione europea a parte di non avere una politica esterior propria perché è subordinata ai Stati Uniti ha un complesso di culpa rispetto a i judici perché in Europa specialmente in Alemania nazi però anche in Olanda la Francia di Petè in Austria se mataron in campos de exterminio a 6 millones de judieos e è normal che Europa tenga un complejo de culpas sobre questo però de esos 6 millones de más de 6 millones de judieos asesinados en las cámaras de gas responsables son los que lo hicieron non el pueblo palestino no tiene por que pagar por los crímenes que cometieron que se cometieron en Europa hace 60 años contra esto es evidente que l'Europa non ha oltre a non avere una propria politica estera perché sempre subordinata a quella degli Stati Uniti ha un complesso di colpa nei confronti degli ebrei con quello che è accaduto in Germania in Olanda in Austria i 6 milioni di morte che ci sono stati causati in causano per l'Unione Europea un grande complesso di colpa ma i più di 6 milioni di morti che sono morti nelle camere a gas avevano tinesi di quanto è accaduto in Europa Tampoco puede la Unione Europea ni nadie considerar al régimen israelí ni heredero ni representante ni portavoz de todos los judíos del mundo ni de las víctimas del holocausto nazi porque los judíos del mundo no los que están dentro de Israel sino los que están en Europa en América Latina en Estados Unidos se están manifestando diciéndole a Israel que no hable en su nombre que no actúe en su nombre que Israel no lo representa que lo que no puede ser es que los que sufrieron o el sufrimiento de los que murieron en Auschwitz y en el resto de los campos de concentración que ese sufrimiento les sirva de excusa a Israel para llevar a cabo un crimen un genocidio un holocausto contro Apollo palestino Nemmeno può l'Unione Europea né nessuno può considerare il regime di Israele come erede o come portavoce di quanto è accaduto appunto agli ebrei ci sono ebrei in America Latina negli Stati Uniti che manifestano contro Israele che dicono che quello che sta facendo Israele Israele non li rappresenta e che le sofferenze che sono state vissute ad Auschwitz o nei campi non possono essere la scusa per praticare oggi un holocausto contro i palestinesi è è chiamato è chiamato la unione europea o una parte d'Europa che fu responsabile di un holocausto hace 80 anni non può convertirsi ora en complice di un nuovo holocausto in che in che invece di matare i palestini in camera di gas come si ha contro i judici lo stanno matando bajo i misili lanzati con gli F-16 israeliani è per dire che l'Europa o una parte dell'Europa che è stata responsabile di un holocausto 80 anni fa oggi non può essere complice della stessa azione o di un holocausto messo in piedi da israele abbiamo che sali a la calle para presionar la Unione Europea para presionar a israeli para presionar a su patrocinador de Estados Unidos pero tenemos que salir con un mensaje claro en primer lugar acabar con este genocidio decretar inmediatamente un alto el fuego no una pausa temporal humanitaria sino un alto el fuego definitivo dobbiamo scendere in piazza dobbiamo manifestare dobbiamo fare pressione all'Unione Europea israele ai suoi al suo patrocinatore gli Stati Uniti ma con un messaggio chiaro il messaggio deve essere fermare il genocidio chiedere un cessate il fuoco non una pausa temporanea umanitaria ma un cessate il fuoco definitivo dobbiamo exigire a nostri governi non solo alla Unione Europea come entramato che tambien por supuesto sino a nostri governi tenemos che exigirle che rompan todo tipo de relazione con este régimen genocida relazioni diplomáticas finanzieras militares non è possibile mantenere relazioni con un régimen che sta llevando a cabo un holocausto contro il palestino dobbiamo esigere ai nostri governi quindi non solo all'Unione Europea ma anche ai nostri governi che rompano ogni relazione diplomatica finanziaria militare non è possibile mantenere relazioni con chi sta portando avanti il genocidio l'olocausto contro i palestinesi abbiamo che exigir a tutti nostri governi che decrete un embargo in la compra e venta di armati a israel non è admisibile che se stanno matando a i palestino con armati che vendiamo da Europa però tampocco è aceptable che compriamo a israel armati con il sello di test in combat è dire armati comprobati in combate abbiamo utilizzato questa bomba sobre la cabezza de los niños palestinos matan muy bien e noi compramos le armati con ese sello questo nos conviene non solo en complice sino in question più grave dobbiamo esigere ai nostri governi che venga attuato un embargo sull'acquisto e sulla vendita delle armi sia le armi che vengono vendute dall'Unione Europea ma anche le armi che noi compriamo che hanno un timbro che mette Israele che dice che sono armi da cui capacità di bellica è stata testata è stata provata e noi dobbiamo sapere che vuol dire che sono state usate sulle teste dei bambini palestinesi per dimostrarne l'efficacia dobbiamo esigere all'Unione Europea che cancelli l'accordo commerciale Unione Europea Israele che nella sua seconda paragrafo riporta molto chiaramente che è basato sul rispetto dei diritti umani di entrambi i contraenti e mi pare che sia poco mettibile in discussione il fatto che Israele non stia rispettando i diritti umani dei palestinesi israele deve essere di tutti i programi finanziati per l'Unione Europea il programma Erasmus per esempio però è che il Erasmus è conoscito per il mondo però è che c'è altro programma meno conocido come è l'Horizon Plus in cui con il imposto con il dinero de gli cittadano dell'Unione Europea estamos finanziando per esempio le imprese israeli che fabriano con che non possiamo con il dinero della Unione Europea con il dinero delle famiglie lavorative dello estato miembro della Unione Europea finanziando a empresas che lo che facen è assassinar un'altra delle cose che dobbiamo chiedere è la fine dei programmi fatti dei programmi europei fatti con israele tutti conoscono il programma Erasmus c'è il programma Horizon Plus che pochi conoscono che è un programma che viene finanziato con le nostre tasse e con le nostre tasse vengono finanziate la costruzione dei droni che vengono utilizzati per uccidere i bambini palestinesi noi non possiamo permettere che con i nostri soldi con i soldi delle lavoratrici e dei lavoratori europei si finanzino gli omicidi e gli assassinati dei si non che se adhiera se non lo vuole impulsar a le iniciativa che hanno avuto altri paesi per a Netanyahu e a tutti i responsabili di questo genocidio e tutti i complici perché i complici devono pagare per questo a la Corte Penale Internacional è necessario una especie di nuovo Nuremberg per juzgar a los criminali responsabili di questo holocausto disculpe Manu disculpe Anna teniamo che cerrar Manu grazie allora terminato l'ultima frase l'ultima cosa che dobbiamo pretendere che dobbiamo chiedere è non solo di non sostenere ma di spingere iniziative di appoggiare tutte le iniziative che chiedono che Netanyahu e i responsabili e i complici anche di quanto sta accadendo siano portati davanti alla corte penale internazionale bisogna chiedere che ci sia una nuova Norimberga grazie mille grazie 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 salutiamo salutiamo Manu per questo suo intervento e per la sua disponibilità Manu Pineda è come detto prima parlamentare europea del partito comunista spagnolo ed è di scherda unida prima non l'ho presentato con tutta la dovizia necessaria a questo punto diamo la parola a Maya Issa del movimento studenti palestinesi in Italia buona buonasera a tutti grazie non è a fare lezioni di storia penso che dobbiamo stare a parlare dell'attualità e l'attualità oggi proprio Israele ha fatto altri crimini di guerra sta colpendo il nord di Gaza ha colpito una scuola ci sono più di 150 martiri la maggior parte sono ancora bambini e donne e in Cisjordania c'è in corso anche lì una pulizia etnica tutti i fari sono accesi su Gaza ma non si sente parlare della Cisjordania e i coloni fanatici stanno commettendo veri e propri pogrom e dal 7 ottobre ad oggi ci sono 212 martiri solo in Cisjordania da noi palestinesi la prima domanda che ci è stata fatta dal 7 ottobre ad oggi è cosa ne pensate di Hamas condannate l'azione di Hamas e io qui mi sento di dire che giustamente non giustifico quello che ha fatto Hamas perché comunque ha causato la morte di donne e di bambini noi siamo contro ogni morte ma è importante anche comprenderla perché quell'attacco non è venuto dal vuoto e i nostri mainstream non hanno contestualizzato il 7 ottobre che era una risposta a 75 anni di occupazione era una risposta soprattutto da Gaza perché Gaza ha un embargo militare da 16 anni a Gaza ci è stato detto che Gaza è amministrata da Hamas e questo è un grande errore perché Hamas non amministra assolutamente Gaza Israele tiene il controllo per via terra area mare e tutto di Gaza i bambini non ottengono permessi sono violati tutti i diritti basilari a Gaza e soprattutto quello che sta commettendo Israele dal 7 ottobre ad oggi sono dei crimini di guerra contro l'umanità colpire scuole colpire bambini colpire ospedali colpite lì non ci sono basi terroristiche e lo hanno dimostrato quando sono entrati qualche giorno fa all'ospedale di Alcefa e non hanno visto nessuna base terroristica e io qui rispondo a tutti i media mainstream che ci chiedono ma voi palestinesi utilizzate i bambini e donne come scudi umani e anche se fosse ma abbiamo visto che non è vero e voi sapete che sono lì presenti donne e bambini come vi permettete ad uccidere donne e bambini quindi fate schifo più voi o chissà che quelli sono donne e bambini e vengono utilizzati come scudi umani e quindi noi qui da solidali abbiamo anche una nostra responsabilità anche da palestinesi perché noi per troppo tempo non siamo scesi in piazza noi abbiamo tantissime chefie che sono ingiallite e si sono ammuffite e non possiamo permetterci di scendere in piazza solo quando Gaza è sotto i bombardamenti Gaza ha bisogno di noi ora e sempre la Palestina ha bisogno di noi ora e sempre la Palestina deve essere rimessa all'interno dell'agenda politica di tutti i politici di tutti perché noi siamo stufi io sono palestinesi di una nuova generazione e noi siamo stufi che i politici ci regalano solo parole e che o strumentalizzano la questione palestinese e la questione palestinese è una questione politica non è solo una questione umanitaria e quindi i palestinesi non hanno bisogno di soldi non hanno bisogno di raccolte fondi hanno bisogno di una soluzione politica dell'Europa perché il sionismo è nato qui il sionismo è nato in Europa non è nato negli Stati Uniti e l'Italia e la Germania sono i primi a dover pagare le conseguenze delle leggi razziali e dello sterminio e non deve essere il mio popolo a pagare le conseguenze degli errori fatti qui in Europa e la prima ad essere processata è portata davanti alla Corte Penale Internazionale non è Biden ma è Ursula von der Leyen con le sue parole è una vera e propria criminale e soprattutto da solidale dobbiamo stare attenti alle parole che diciamo perché spesso noi utilizziamo parole errate come ad esempio il conflitto israelo-palestinese quello che sta accadendo non è un conflitto è un genocidio è uno sterminio è una pulizia etnica è un massacro del popolo palestinese e non deve essere accusato il popolo palestinese di antisemitismo perché ora se dici che Israele commette un genocidio nei confronti di noi ci dicono che tu non puoi utilizzare quella parola ma è un genocidio è Israele che deve essere condannata per antisemitismo perché anche noi palestinesi siamo semiti e sono loro che stanno uccidendo noi palestinesi semiti e non il contrario e soprattutto chi dice che ci deve essere una soluzione e qui termino due stati due popoli è completamente errata una soluzione che non funziona più dobbiamo trovare un'altra soluzione perché affinché ci sia uno stato ci deve essere integrità territoriale che in Palestina non c'è perché in Cisgiordania sono presenti insediamenti legali ad oggi ci sono più di 800.000 coloni che cosa vogliono farne abbiamo dalla Cisgiordania da una parte e Gaza da un'altra io non so se forse pensano di costruirci un ponte per collegare Gaza alla Cisgiordania poi abbiamo bisogno di confini e Israele non ha se voi aprite adesso internet Israele non ha confini ben precisi è l'unico stato al mondo che non ha confini e quindi come è possibile ed è ora riconoscere lo stato palestinese significa rendere la Palestina prigioniera all'interno dello stato israeliano e quello che noi chiediamo non è solamente il cessato al fuoco perché il cessato al fuoco non è la soluzione potrebbe Israele ribombardare tra due anni tra un anno o tra qualche mese la soluzione è porre fine all'occupazione questo è l'ordine del giorno non è il cessato al fuoco dovrebbero essere smantellati gli insediamenti illegali e Israele dovrebbe essere portata e gnatagnato davanti alla corte penale internazionale dell'AIA e non ospedata dalla nostra premier Giorgia Meloni come un capo di stato perché quello è un criminale non è uno che può essere ospitato come un capo di stato e quindi smantellamento dei coloni fino all'apartheid fino all'occupazione e poi il cessato al fuoco grazie Maria ora diamo la parola in collegamento a Luisa Morgantini dell'associazione Asso Pace Palestina Luisa ci sei? proviamo ci sono ci sono c'è un tra la sala non ti sento però scusa un attimo Luisa un attimo che stiamo mando l'audio proviamo adesso eccomi ci sono un attimo che proviamo ad abbassare va bene così va bene vediamo un attimo no perché devono sentire anche giù in fondo e c'è gente anche fuori dalla sala lo dico quindi è meglio se è un po' più alto Luisa prova provo provo perfetto sono sento ma intanto dopo le parole De Maia che io condivido quasi interamente perché quello che ci troviamo di fronte non voglio ripeterlo perché l'avete detto qui e perché mi sembra che la richiesta venuta da voi fosse quella di una riflessione anche sulla situazione condividiamo io credo tra di noi che ancora manteniamo un'umanità il dolore l'orrore la rabbia di quello che sta succedendo a Gaza ma anche nella Cisgiordania e anche all'interno di Israele perché il piano di Israele soprattutto di questa parte anche di questo governo che dire fascista non vuol dire nulla un governo di coloni un governo di criminali Ben Ghir ministro è un criminale lo stesso Smotrici ma lo hanno detto chiaramente il loro disegno è quello di portare a termine quello che Ben Gurion non ha avuto il coraggio o il tempo di fare e cioè la pulizia etnica della Palestina e lo stanno facendo lo stanno facendo perché quello che succede a Gaza è un genocidio non una parola io con difficoltà uso la parola genocidio ma in questo caso ci sono tutte le questioni giuridiche morali umane per dire che si stanno commettendo un genocidio e lo stanno commettendo non nel silenzio dei nostri governi o nel silenzio dell'Unione Europea no lo stanno commettendo con la complicità dell'Unione Europea con la complicità degli Stati Uniti Guterres perché osa dire che non tutte le cose iniziano il 7 ottobre dà perfettamente ragione e non cominciano neppure dal 2007 quando Hamas ha preso con la forza il potere a Gaza Gaza è sempre stato dal 67 sotto un'occupazione militare violenta e soprattutto sempre ha subito sanzioni ha subito repressioni ha subito uccisioni i tunnel non sono stati fatti da Hamas i tunnel adesso li hanno usato Hamas sicuramente anche per portare le armi ma i tunnel io ricordo perché stavo a Gaza in tutti quei tempi i tunnel sono stati fatti semplicemente per importare merci dall'Egitto perché Israele impediva anche in quegli anni soprattutto a partire dal 2002 con la seconda intifada impediva qualsiasi importazioni di merci e quindi io ricordo un palestinese che si chiamava il King che faceva passare era specializzato per far passare le donne o gli uomini che magari dovevano sposarsi con persone di Gaza e non avevano il permesso perché Israele ha sempre controllato sia Rafa sia Eret ha controllato tutti i confini il mito che Israele se n'è andato togliendo i coloni nel 2005 è un mito è una menzogna le solite menzogne che racconta l'Asbar israeliana perché hanno tolto i coloni ma hanno lasciato totalmente totalmente Gaza in una prigione a cielo aperto controllata dall'aria dal cielo e dalla terra i pescatori non pescano più non c'è più commercio quindi Gaza da sempre ma così come la Cisgiordania sono sotto occupazione militare quindi che fare di fronte a questo dolore a questo orrore grande è stata la mobilitazione internazionale la gente le persone sono con la Palestina e con la Palestina che deve essere libera sulla propria terra i governi no e allora ci sono molte cose da fare io condivido condivido totalmente l'ho letto fin dall'inizio fin dal giorno in cui Ursula è andata a 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 internazionale ma anche i capi capi di governo dell'arma israeliani in europa e si sono formati più di 500 avvocati che hanno già presentato denuncia alla procura della corte penale internazionale ci sono già le vittime nuove di questa atroce atroce bombardamenti atroce genocidio che già hanno portato davanti alla corte penale internazionale ma noi dobbiamo far sì che la corte penale intervenga davvero dobbiamo muoverci anche rispetto a loro molti stanno chiedendo le dimissioni di can che in realtà è un giudice che ha solo raffreddato le possibilità di far sì che si facesse celeramente il processo per le vittime una nuova norenberga si sarebbe utile per tutti ma anche negli stati uniti per esempio migliaia di avvocati stanno portando biden di fronte alla alla corte penale internazionale e c'è un problema però anche all'interno della palestina eh hanno chiesto a salam fayadi in una intervista su repubblica il day after e salam fayadi ha detto cessate il fuoco cessate il fuoco io penso anch'io che non ci possa essere soluzione se non c'è la fine dell'occupazione della parte della colonizzazione ma adesso la gente sta morendo in un modo tremendo inutile dire quanti crimini sta commettendo israele e allora vengono anche voci già anche del dopo e allora per esempio noi cosa possiamo fare salam fayadi dice che è necessario anche rinnovare l'olp includendo Hamas all'interno dell'olp un rinnovamento generazionale ma anche un rinnovamento di sistema e che non si può pensare che ci sia un day after con la con l'autorità palestinese che entra a Gaza Baruan Barguti dalle carceri ancora chiede l'unità così come ha chiesto sempre fin dal 2006 durante le elezioni che vinse Hamas e poi l'Unione Europea decise di boicottare quel governo dalle prigioni ancora da Baruan e da tutti i prigionieri che sono nelle carceri che sono raddoppiati in questo ultimo tempo perché in Cicciordani non sono i conori criminali che pensano che quella terra sia loro per diritto divino attaccano attaccano i palestinesi pastori ma anche ovviamente i soldati difendono i coloni quindi da lì ci viene e noi dovremmo credo portare avanti una campagna per la liberazione di Maruan e dei prigionieri politici ma il cessato il fuoco è indispensabile non la tregua non la tregua cessato il fuoco e richiedere assolutamente i nostri governi che smettano di commerciare con Israele che smettano anche l'Unione Europea di sostenere gli accordi di associazione con Israele è tempo di sanzioni anche per Israele e credo che noi e tutte le manifestazioni che sono in Italia e nel mondo sono straordinarie e importanti bisogna portarle avanti ma dobbiamo anche capire come unire le nostre forze in questo periodo noi siamo unici ma anche come sia possibile far sì che anche all'interno di Israele le voci che non sono solo per il cessato il fuoco le voci che dicono anche insieme a molti giovani palestinesi che il tempo è il tempo dell'uguaglianza per tutti e tutti che c'è bisogno di democrazia e c'è bisogno di partecipazione e non si può fare questo senza la fine dell'occupazione militare israeliana Marwan Barghout è una frase che vedo nelle piazze, una frase di Marwan Barghout è quella che dice il primo giorno di pace sarà l'ultimo giorno, il primo giorno di pace sarà quando sarà finita l'occupazione quindi dobbiamo lavorare insieme, uniti anche per cercare di far sì che davvero i palestinesi possano vivere vivere, ci insegnano ogni giorno la dignità ma avete visto come agiscono a Gaza, come si aiutano, come sono solidari in una situazione di quel tipo, chiudo, chiudo, lo so, il tempo, chiudo, vabbè chiudo, vi ho visto quindi dobbiamo essere uniti e però continuare insieme perché la Palestina ha il diritto e noi abbiamo il diritto di vivere in un mondo con democrazia perché anche da noi la democrazia è veramente ferita grazie, ciao grazie grazie a tutti mi ridai la voce grazie a Luisa Morgantini chiediamo scusa se proviamo a tenere nei tempi ma gli interventi sono molti la sala è molto partecipata e questo ci fa anche particolarmente piacere perché vuol dire che insomma il tema e l'organizzazione di questa assemblea si sono incontrati perfettamente a questo punto diamo la parola a Raniero Lavalle firmatario dell'appello per la pace, terra e dignità oltre che ex senatore e poi prenderà la parola Eliana Riva storica e giornalista a cui daremo la parola dopo ma anzitutto si sente, non lo so anzitutto bisogna dire che questa guerra di Gaza non è una guerra perché chiamarla così sarebbe una diffamazione perfino della guerra perché nella guerra uccidere è un mezzo, non è il fine si deve uccidere in guerra per raggiungere determinati obiettivi, determinati risultati ma a Gaza l'obiettivo, lo dice anche il Corriere della Sera sono i palestinesi da uccidere in quanto Hamas o in quanto scudi umani di Hamas che è poi tutta la popolazione palestinese di Gaza l'altro giorno il candidato a sostituire Netanyahu al governo di Tel Aviv come programma per farsi eleggere ha detto che vuole vincere l'odio che oggi serpeggia dentro lo stesso Israele tra gli stessi israeliani e uccidere tutti quelli che hanno fatto il raid del 7 ottobre quindi l'obiettivo la promessa elettorale di questo successore di Netanyahu è di uccidere tutti quelli da cui Israele è stata colpita il 7 ottobre ora però l'altro luogo comune è di dire che Israele ha il diritto di difendersi però la difesa non è uccidere fin dall'incubatrice il futuro nemico perché questa scena dei bambini usciti dall'incubatrice che come fagottini sono lì pronti a essere buttati nella discarica se è una prevenzione della difesa beh è una prevenzione che arretra molto nel tempo più ancora di quella di Erode addirittura i bambini dentro le incubatrici o l'utero materno la verità è che a Gaza è in corso una distruzione totale una sorta di delenda cartago e siccome adesso abbiamo poco tempo io affronterò solo un problema di questa complessa situazione e la domanda è chi è l'artefice di questa sciagura di questi delitti chi è l'artefice di questa scenografia della fine perché siamo di fronte a una specie di rappresentazione della fine non solo per Gaza non solo per Israele ma forse per tutti allora è chiaro che l'orrore in corso a Gaza deve essere messo in capo allo Stato di Israele come tale ma che cos'è lo Stato di Israele? lo Stato di Israele si dichiara nella sua legge di rango costituzionale che è stata approvata nel 1218 come il composto di tre elementi di tre realtà primo la terra di Israele e la patria storica del popolo ebraico in cui lo Stato di Israele si è insediato secondo lo Stato di Israele è la patria nazionale del popolo ebraico in cui esercita il suo diritto naturale culturale religioso e storico all'autodeterminazione terzo il diritto di esercitare l'autodeterminazione nazionale nello Stato di Israele cioè i diritti politici è esclusivamente per il popolo ebraico e con ciò i palestinesi lo Stato palestinese sono esclusi per sempre allora è questo lo Stato di Israele che oggi sta compiendo questa azione a Gaza e allora dobbiamo chiederci a chi veramente sono attribuibili queste azioni non si possono attribuire queste azioni al popolo ebreo come tale né alla religione di Israele né al messianismo della fede che sono i tre elementi che sono impliciti in quella definizione di Israele che è data nella legge fondamentale gli autori non sono questi perché l'errore se non la blasfemia è proprio quello dell'attuale Israele che si definisce come uno Stato ebraico è uno Stato ma non può essere uno Stato ebraico può essere uno Stato così come l'ha definito Hobbes e come poi gli Stati si sono configurati nella modernità in questo non c'è dubbio è uno Stato è lo Stato leviatano che nasce dalla paura che reagisce all'uccisione a cui tutti sono soggetti nello Stato selvaggio è lo Stato che vuole dare sicurezza è lo Stato che si fa uomo collettivo che si fa macchina che è sovrano su tutto e non riconosce alcun altro sopra di sé ed è lo Stato che si erge così come è stato definito come un Dio mortale così come esplicitamente è stato definito da Thomas Hobbes per distinguerlo dall'altro Dio sicché all'homo homini lupus si sostituisce l'homo homini Deus ma non c'è se questo è lo Stato e anche lo Stato di Israele non ci può essere altra realtà più lontana e opposta alla fede di Israele al rapporto del popolo ebreo con il suo vero Dio con la sua vera legge o Torah come la si voglia chiamare non c'è opposizione più che questa più grande alle sue vere scritture messianiche non è possibile che dal ceppo dell'ebraismo da cui sono venuti fuori i grandi profeti i salmisti lo stesso Gesù per non parlare dei grandi rabbini testimoni e sapienti che sono loro seguiti nel tempo fino a oggi da rabbia a Chiva a Benazai ad Arthur Green a Yehuda Elkana a Sholem Herzog Jacob Taubes Bruno Segre per fare solo qualche nome di autosio non è possibile non è possibile si sentono non è possibile che dalla fede di Israele che è stata testimoniata da questi grandi testimoni anche del passato possano derivare comportamenti come quelli a cui si stanno abbandonando lo Stato e l'esercito di Israele a Gaza così come nella colonizzazione della Giordania anche a voler ammettere una interpretazione fondamentalista e letterale della Bibbia non si può far risalire al Dio unico di Israele l'avallo della carneficina in corso non si capirebbe altrimenti il rapporto d'amore oggi ristabilito tra ebrei e cristiani tra palestinesi ed ebrei come ci ha detto anche Ali Rashid non si potrebbe capire la nostra età e la dichiarazione del Concilio Vaticano II non si potrebbe capire il trasporto con cui Papa Vojtiva ha definito gli ebrei i nostri fratelli maggiori né si potrebbe capire il dolore che molti sinceri cattolici oggi hanno nel fatto di non potersi riconoscere in questa Israele qui come paese in cui vivo l'Utria quindi non può essere la fede ma tantomeno può essere il messianismo di Israele che produce queste azioni perché se l'errore di tanta teologia cattolica è stato quello di avere fatto del messianismo una categoria escatologica rimandata a un imprecisato futuro tanto da meritarsi l'accusa di alienazione di disperdere i tesori nei cieli invece nell'ebraismo rabbinico il messianismo riguarda la storia presente riguarda questo mondo qui però secondo l'ebraismo rabbinico la promessa messianica si sarebbe dovuta realizzare non per opera umana non si doveva incalzare il messia non si doveva forzare la fine e perciò la spiegazione della nascita dello stato di Israele che gli studenti stranieri di ebraico si sono sentiti dare dal direttore sionista della scuola di Gerusalemme che disse il messia non è venuto e allora siamo venuti noi questa tesi è assolutamente inaccettabile per l'ebraismo per l'ebraismo tradizionale naturalmente questa l'artefice di tutto ciò si può fare risalire a tutto il popolo ebreo come tale perché se noi dicessimo questo se noi accettassimo l'idea che quello che si sta compiendo viene compiuto dallo stato in quanto stato degli ebrei ricadremo sì nel razzismo ricadremo nella idea dello stato etnico ricadremo nell'idea che produce che produce l'antisemitismo quindi l'affermazione da fare qui che il vero antisemita oggi è il governo di israele il vero antisemita quello che sta producendo questa ventata di ripresa dell'orrendo antisemitismo in tutto il mondo è il governo di israele che sta facendo queste azioni imputando queste azioni alla fede di israele al missionismo di israele e al popolo ebraico questo è ciò che noi dobbiamo negare dobbiamo in radice escludere e allora per concludere qual è il vero dov'è che sta il buco nero di questa catastrofe è nella concezione dello stato che guardate non riguarda solamente lo stato di israele è la concezione dello stato che quando si ritiene un assoluto la sovranità sopra qualunque altra cosa lo stato che può fare qualunque cosa la ragione di stato quando si unisce ad altri assoluti che sia una religione che sia un mercato che sia una finanza che sia un'etnia che sia un popolo quando questi assoluti si uniscono allora questo stato è la causa delle uccisioni dei genocidi delle oppressioni delle distruzioni quindi la vera questione che viene che viene riproposta è la questione dello stato come lo dobbiamo rinnovare come lo dobbiamo cambiare come lo dobbiamo riformare perché certo la soluzione non può essere quella di abolire lo stato e neanche credo in palestina la soluzione può essere quella di fare a meno della entità della figura dello stato ma bisogna inventare uno stato in cui le sovranità siano condivise che non siano stati esclusivi dell'una o dell'altra etnia ma siano stati aperti all'eguaglianza all'incontro alla collaborazione di etnie diverse di culture diverse di religioni diverse con una distribuzione di poteri con una comunità di vera identità all'interno di un uomo e anche quindi di questo fatto ormai che è stato reso impossibile è stato giustamente ricordato ma come si fanno i due stati di due popoli in due stati quando ormai la Cisgiordania è resa a Brandelli e dove i palestinesi sono costretti in piccole anclave come si fanno come si fanno due territori per due stati bisogna inventare un altro modo di stare al mondo un altro modo di stare dentro una comunità politica perché solo questo è possibile fare e solo questa è la soluzione possibile grazie mille a Raniero Lavalle ne approfitto per ricordare che anzi per dire perché probabilmente non l'abbiamo detto che faremo in modo che gli interventi di tutti quanti i relatori e le relatrici di oggi vengano resi disponibili quindi i video li metteremo poi sulla pagina sia romana che nazionale di rifondazione comunista e poi Raul Mordenti insieme al giovane al giovane comunista della federazione di Roma Adriano cureranno praticamente una sorta di atti di questo di questo convegno anche per dare il giusto spessore a tutti questi interventi che abbiamo dovuto per questioni di tempo ovviamente sintetizzare eh io do la parola Eliana Riva che è in collegamento ci tengo a ringraziarla particolarmente perché alla fine della nostra iniziativa come vi dicevo sarà possibile assistere alla proiezione del documentario il cielo di Sabra e Shatila prodotto da pagina essere proprio con con la regia di Eliana Riva e ci sarà ve lo ricordo ancora il buffet a sottoscrizione vi chiedo gentilmente una piccola sottoscrizione perché la federazione romana è povera e perché la mezzaluna rossa palestinese ha bisogno di tutto quello che possiamo e siamo in grado di dare in questo momento Eliana in collegamento grazie 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 mille a tutti e tutti voi per questo invito innanzitutto mi sentite? un attimo Eliana che dobbiamo regolare il volume ogni volta ok prova dimmi tu quando siamo pronti si sente? aspetta 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 ok prova ora prova prova si sente? si sente bene? si ok si vai pure perfetto ringraziavo tutti voi e tutte voi dell'invito innanzitutto io insomma come mi è stato chiesto farò un veloce focus sulla situazione attuale oggi arrivano brutte notizie arrivano notizie tremende ormai da 42 giorni alcuni giorni scusate allora un attimo chiedo un attimo Eliana scusami se interrompo chiedo un attimo in sala per favore se possiamo avere un attimo e poi non è che noi siamo auto cioè non siamo robot un attimo e proviamo a aggiustare l'audio senza che urliamo vai Eliana grazie prego dicevo che oggi purtroppo ci sono notizie tremende ci sono brutte notizie insomma sempre da più di 40 giorni a questa parte alcuni giorni va peggio da Gaza e anche dalla Cisgiordania come diceva Maya prima i riflettori sono accesi sulla striscia ma anche ciò che accade in Cisgiordania è tremendo e vale la pena sempre essere attenti su tutto ciò che succede a Gaza le comunicazioni e quindi anche l'aggiornamento purtroppo sul numero delle vittime è sempre più complicato anche il Ministero della Salute ha delle difficoltà è difficile avere insomma le comunicazioni sappiamo come sono meglio quanto non funzionino tuttavia quello che è successo e che succede all'interno dell'ospedale al SCIFA l'abbiamo visto nei giorni scorsi oggi è quasi completamente spollato rimangono pochi medici poco personale e molti alcune famiglie dei feriti più gravi molti dei quali sono già deceduti purtroppo i pazienti e insomma il personale medico ha dichiarato di aver ricevuto l'ordine di abbandonare l'ospedale l'esercito ha poi però riferito che non era un ordine più che altro si trattava di un consiglio consigliava alle persone all'interno dell'ospedale di allontanarsi e di andare verso Sud in effetti molte lo hanno fatto però testimoni hanno raccontato di aver trovato lungo la strada principale quella indicata da Israele come sicura dei checkpoint israeliani ai quali spesso facevano passare solamente le donne trattenendo quindi gli uomini che erano appena fuggiti da quell'ospedale il bombardamento alla scuola sempre nel nord di Gaza una scuola gestita dalle Nazioni Unite è importante ricordarlo non è stata neanche la prima volta che Israele ha bombardato insomma quella scuola è successo durante questo attacco ma anche durante gli attacchi precedenti ha causato decine di morti però non si bombarda solo il nord della striscia anche il sud dove ci sono centinaia di migliaia di sfollati che vivono in condizioni ormai terribili manca qualsiasi cosa cibo acqua medicina ci sono le acque di scarico che non vengono più purificate che dal nord arrivano direttamente al sud è stato bombardato Cani Unis che è un quartiere molto popoloso ora soprattutto con l'arrivo dei profughi e sono stati consegnati dall'alto dei volantini che chiedevano alla popolazione di Cani Unis quindi del sud della striscia di lasciare Cani Unis di spostarsi verso un luogo ancora più a sud ancora più vicino all'Egitto verso ovest verso la costa che si chiama Al-Maluasi è un piccolo insomma un luogo un luogo povero dove già all'inizio dell'attacco gli israeliani avevano chiesto alla popolazione di Recarbisi anche alle Nazioni Unite è stato domandato di creare lì delle tendopoli per accogliere questi profughi da lato loro i palestinesi sanno bene quello che questo vorrebbe dire quindi chiedono alle stesse organizzazioni unite di non fare il gioco di Israele le tendopoli che sono state create nel 48 in giro per molti paesi arabi e all'interno anche della della striscia di Gaza anche dopo il 48 sono diventati oggi dei campi profughi che ospitano ormai la quarta generazione di profughi quindi i palestinesi sanno bene che star lì nelle tende potrebbe significare non tornare nelle proprie case l'obiettivo israeliano ormai è abbastanza chiaro insomma spingere sempre di più la popolazione verso il sud ma rendere anche il sud poco sicuro di modo da di portare insomma tutta questa questa massa di persone in condizioni umanitarie ormai terribili a spingere verso l'Egitto e al Sisi insomma sappiamo che cosa significano gli incontri che sta avendo in questi giorni con importanti esponenti dei governi occidentali dell'Unione Europea ed altro si trova si sta trattando sul modo che potrebbe convincere l'Egitto ad accogliere diciamo così questi palestinesi che verosimilmente sarebbero nuovamente spollati di una nuova Nakba spollati di una nuova Nakba che avviene anche in Cisgiordania sono ormai più di 800 i palestinesi che sono stati cacciati dalla Cisgiordania nuovi profughi quindi sia dall'esercito israeliano che dai coloni si diceva prima diceva anche Luisa Morgantini che ormai insomma sono sopra qualsiasi legge costituiscono delle milizie paramilitari spesso sono indivise attaccano i villaggi palestinesi li minacciano dicono semplicemente se entro domani non andate via noi ammazziamo tutti quanti hanno ucciso 8 palestinesi di più di 200 morti e gli attacchi si sono raddoppiati gli attacchi dei coloni dal 7 ottobre e si sono moltiplicati anche quelli dell'esercito israeliano che all'interno dei campi profughi soprattutto Genin ma anche Ramallah Nablus insomma non solo uccide palestinesi arresta palestinesi ma distrugge tutto quello che può distrugge distrugge le strade distrugge rete idrica elettrica incendi ai negozi distrugge abbiamo visto la distruzione a Tulcarem anche di una statua insomma un monumento dedicato ad Arafat gli arresti sono in un numero impressionante dal 7 ottobre praticamente è stata arrestata quella che era già la metà della popolazione carceraria palestinese in Israele il numero degli arrestati insomma dei prigionieri politici ha superato i 7000 palestinesi all'interno delle carceri israeliane spesso vengono questo insomma ha detto anche delle organizzazioni umanitarie dell'ONG vengono utilizzate torture ma sono soprattutto arrestate anche studenti studentesse attrici persone che si occupano che si occupano di diritti umani esponenti politici palestinesi ma anche esponenti politici arabi di Israele ai quali viene vietato di organizzare delle manifestazioni per chiedere lo stop insomma dei bombardamenti a Gaza la situazione ad Ebron che già normalmente è complicatissima è diventata ingestibile e invidibile le persone nella zona H2 che già erano insomma impossibilitate a muoversi normalmente oggi possono uscire e intendo uscire anche dai balconi perché non hanno la possibilità neanche di affacciarsi dalle finestre possono uscire per due ore al giorno una la mattina e una la sera tre volte la settimana questo significa spesso non avere neanche il tempo di arrivare dove si deve e di ritornare ieri ero in collegamento con l'università gli studenti dell'università che hanno occupato l'università di Padova e c'erano dei ragazzi di Youth Again Settlement che ci dicevano hanno più libertà i cani dell'esercito israeliano che noi che siamo qui ad Ebron e non è un modo di dire è proprio così e ci sono infine oddio ci sarebbe da dire altro però anche i lavoratori di Gaza che sono lavoratori che avevano permessi di lavoro in Israele che sono stati deportati portati vicino ai checkpoint vicino alle città della Cisjordania abbandonati lì spesso sono all'interno di hotel se possono o occupano scuole ed altro e vengono sono circondati e vengono guardati osservati a vista dall'esercito israeliano che spesso compie raid e arresti e punizioni insomma in poche parole questo quel cambio del del Medio Oriente che di cui ha parlato Netanyahu all'inizio dei bombardamenti sul Gaza disse che il Medio Oriente cambierà il suo volto riguarderà Gaza ma riguarderà senz'altro anche la Cisjordania e la presenza palestinese nei territori occupati grazie mille grazie a voi grazie grazie Eliana sicuramente mi dovranno rialzare il microfono anche se io urlo quindi anche senza vado bene dovrebbe esserci anche Eleonora Forenza sempre in collegamento poi chiedo di prepararsi a Fabrizio De Santis per l'ampi provinciale di Roma buongiorno a tutti si sente e Eleonora aspetta che si sente anche troppo tipo un concerto aspetta un attimo prova piano ciao a tutti a tutti aspetta un attimo abbassiamo ancora vai ciao a tutti a tutti va bene così vai Ele grazie grazie a tutti a tutti scusate se non sono lì in presenza tra poco qui a Bari ci sarà un anzi è già in corso un ennesimo presidio di solidarietà con le sorelle e i fratelli palestinesi domani mattina sempre a Bari riprenderemo una tradizione a cui sono e tante di noi insomma sono legate mi piace dirlo alla Casa Internazione delle Donne riprenderemo diciamo la tradizione delle donne in nero manifestando domani mattina a Bari io voglio dire soltanto due cose unandomi riprendendo le tante cose che condivido che sono già state dette la prima è diciamo relativa alla fotografia della situazione che ci è stata rappresentata e al diciamo al nostro che fare come compagni e come compagnie che vivono in Italia e che sono da sempre solidali con la lotta per la giustizia e per la libertà del popolo palestinese e la seconda mi prenderò qualche secondo la seconda cosa che voglio dire riguarda invece quello che sento come insegnante come donna che lavora tutti i giorni a contatto con ragazzi e ragazze giovani che insomma sono poco poco più giovani di di Maya io credo che diciamo la sintesi della fotografia che drammaticamente ci è stata consegnata da ultimo proprio dal racconto di di Liana dagli aggiornamenti che ci ha dato Liana è quella di fatto di una nuova Nakba noi siamo di fronte a una nuova Nakba che non è diciamo come dire accidentale e non è eh neanche eh soltanto descrivibile eh come eh una sproporzionata reazione ai fatti del 7 ottobre eh questa nuova Nakba eh che sta portando a immagini di esodo forzato da Gaza eh di arresti indiscriminate e uccisioni indiscriminate in Cisgiordania è da anni anni il piano Smotrich cioè quello di eh o emigrazione o annichilimento che è stata descritta diciamo da parte di intellettuali eh israeliani eh come diciamo appunto critici nei confronti del piano Smotrich come eh o il popolo palestinese ammette la propria sconfitta ammette la propria inferiorità oppure è diciamo destinato a vivere come un popolo di espropriati espropriati non soltanto di terra ma espropriati di dignità e oggi siamo di fronte alla diciamo trasformazione all'attuazione di questo piano in una forma conclamata esplicita eh che passa diciamo dal colonialismo diffuso all'apartheid diffusa al vero e proprio genocidio nei confronti della striscia di Gaza e allora eh io penso che noi dobbiamo essere eh consapevoli di questo e consapevoli di quali sono le responsabilità europee in primo luogo di fronte al genocidio in corso io sono completamente d'accordo con chi Maya e Luita in primo luogo hanno detto la prima che dovrebbe finire di fronte a una corte penale internazionale insieme a Netanyahu si chiama Ursula von der Leyen e questa cosa noi la dobbiamo dire con chiarezza questa Europa non è la nostra Europa non ci rappresenta ed è un'Europa che noi consideriamo corresponsabile di crimini di guerra e crimini contro l'umanità eh riprendo alcune cose che diceva Manu Pineda eh rispetto diciamo all'accordo di associazione e l'articolo 2 dell'accordo di associazione tra Israele eh e Palestina eh è una mh battaglia di lungo corso diciamo del del gruppo parlamentare dell'EFT GNGL il ricordo diciamo eh di essermene anche personalmente occupata in Parlamento eh europeo ma che già diciamo Luisa Morgantini che è stata vicepresidente del Parlamento eh europeo eh aveva come dire eh sollevato eh la 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 questione diciamo del totale del totale mancato rispetto dell'articolo 2 dell'accordo di associazione eh fra Unione Europea e Israele ma nonostante questo continuano diciamo gli scambi di armi il commercio di armi continuano programmi come eh Horizon Plus eh continuano a esserci eh come dire forme di finanziamento della guerra di Israele di Israele e oggi noi siamo di fronte però a un salto di qualità ed è bene che ne siamo consapevoli ne siamo consapevoli eh se diciamo fino a qualche anno fa il Parlamento europeo eh votava risoluzioni che riconoscevano in principle in linea di principio eh il diritto ai palestinesi e delle palestinesi a uno stato eh bisogna dire che diciamo oggi la situazione è eh radicalmente mutata io sono stata due volte come parlamentare europea in Cisgiordania non sono mai stata a Gaza ma non perché non volessi andarci ma perché entrambe le volte in cui come delegazione abbiamo provato come delegazione parlamentare provato a entrare a Gaza entrambe le volte ci è stato diciamo di fatto impedito l'accesso a Gaza per mancanza delle condizioni minime eh di sicurezza e hai un minuto eh sì sì finisco un minuto grazie finisco eh allora oggi io penso che noi siamo di fronte diciamo non soltanto a una eh come dire complicità fra Unione Europea e eh Israele noi siamo di fronte al fatto che oggi Ursula von der Leyen si è recata in Egitto incontrerà anche o li ha già incontrati proprio oggi eh i leader giordani promettendo loro nove miliardi di euro perché si attui di fatto il piano Smotric e perché di fatto si compie la deportazione del popolo palestinese in particolare del popolo della striscia nel diciamo al confine con con Gaza di fatto siamo di fronte a una soluzione finale questo è il punto che secondo me noi dobbiamo avere molto chiaro dobbiamo avere molto chiare le responsabilità europee in questa eh in questa tragedia la seconda cosa la voglio dire è davvero ci metto pochi secondi da insegnante sentiamo molto parlare di antisemitismo in questo periodo lo diceva benissimo Raul noi non accettiamo lezioni sulla come dire sul ripudio dell'antisemitismo dai nipotini di Almirante non li accettiamo dal ministro Valditara da chiunque voglia mettere le mani sulla libertà di insegnamento oggi molti insegnanti sono sotto processo perché esprimono la loro opinione su quello che sta accadendo in Palestina allora io voglio ricordare quello che vidi quando mi recai con Luisa Morgantini proprio la prima volta in Palestina ai bambini e alle bambine israeliane nei libri diciamo di scuola delle scuole elementari vengono fornite mappe geostoriche in cui diciamo le terre di Cisgiordania sono rappresentate come uno spazio non abitato o abitato diciamo da popolazioni retrograde voglio tra l'altro qui ricordare e le devi chiudere però sì ci metto veramente un secondo lo dico approfittando diciamo del fatto che Elena è nota per il suo impegno ambientalista non ci dimentichiamo il water grabbing da parte di Israele nei confronti del popolo palestinese e la mancanza di acqua in tutta l'area C ecco il popolo palestinese palestinese è rappresentato come un non popolo la terra di palestina come un non spazio allora io voglio qui ricordare voglio qui ricordare che come dire insegnare ai ragazzi e alle ragazze a stare dalla parte giusta della storia a liberarsi a ribellarsi da ogni forma a ogni forma di genocidio è non soltanto un nostro diritto è un nostro dovere come insegnanti grazie Eleonora grazie Eleonora ora mandiamo il video no ho sbagliato ho sbagliato ho sbagliato guarda Fabrizio non volevo mica cancellare quindi ora la parola al compagno dell'AMPI Fabrizio De Sanctis e poi mandiamo il video grazie cari compagni e cari compagni grazie dell'invito a questa iniziativa necessaria per il cessato del fuoco per la giustizia per il popolo palestinese per la pace per due popoli io vorrei dire che sono due anni che ci viene inculcata una propaganda di guerra sono due anni che ci dicono e semplificano dicendo c'è un aggressore e c'è un aggredito sono due anni che ci dicono l'aggressore deve subire sanzioni e si fanno pacchetti continui di sanzioni contro l'aggressore sono due anni che ci dicono l'aggredito deve essere rifornito di armi e si sacrificano le economie occidentali per fornire di armi l'aggredito al quale va la solidarietà in termini economici medicinali di cibo e deve essergli garantito anche di commerciare ora di fronte a quello che sta succedendo e vorrei ricordare che dopo il massacro di San Bresciatila che fece oltre 3.000 morti ci fu una risoluzione dell'ONU con solo alcune astenzioni e definì il massacro di San Bresciatila un episodio di genocidio questo fu la definizione della comunità internazionale e di fronte a tutto questo la signora von der Leyen risponde candidamente risponde disinvoltamente cambiando completamente tutto quello che ha detto per due anni dicendo che lo Stato di Israele ha diritto a difendersi che lo Stato di Israele ha diritto a difendersi ma l'esecrazione per i massacri del 7 ottobre non possono permettere di giustificare in alcun modo quello che sta accadendo in questi giorni e cioè una vendetta collettiva una vendetta una punizione collettiva che sono la definizione del crimine di guerra che sono la definizione del più spreggevole azione e terribile orribile che abbiamo noi di fronte questo doppio standard è insopportabile deve essere denunciato deve essere denunciato in ogni occasione moltiplicando le occasioni di protesta per quello che sta succedendo e per come si sta comportando il nostro paese il nostro paese non prevede nessuna sanzione il nostro paese fornisce armi allo stato di israele in questo momento come le fornisce all'ucraina e il nostro paese non sta facendo nulla ci sono delle navi militari italiane che sono nel mediterraneo assieme alle navi militari degli stati uniti la verità è che da decenni tra il fiume del giordano e il mare esiste un solo stato e quello a cui stiamo assistendo oggi è l'allargamento di fatto dei suoi confini è l'occupazione di tutto quel territorio all'espulsione di fatto del popolo palestinese al suo massacro quotidiano una strage quotidiana continua del popolo palestinese abbiamo ascoltato la Meloni parlare di due popoli due stati ma non si può più parlare di due popoli due stati senza parlare di ritiro di fine dell'occupazione altrimenti essa ancora una ipocrisia e sentiamo parlare di antisemitismo scrolliamoci di dosso questa paura anche a Roma c'è stato l'imbrattamento delle pietre di inciampo dei deportati dello sterminio della seconda guerra mondiale non c'è nessuno di sinistra che ha potuto fare questa cosa chi ha fatto quella cosa sono solo dei fascisti non c'entra niente la sinistra con quegli altri ma c'è un altro aspetto anche a cui dobbiamo stare attenti è la diffusione dell'islamofobia in questo paese che si sta diffondendo senza freni continueremo quindi con voi con tutti quelli con tutta la parte del nostro popolo che è determinata a continuare a costruire manifestazioni a costruire solidarietà raccolta di fondi per la mezzaluna rossa palestinese il 13 dicembre inaugureremo una mostra con 35 tra i più grandi artisti italiani che stanno che stanno realizzando tutti un quadro una scultura una installazione contro la guerra e vi aspettiamo tutti il 13 dicembre in settimana la libertà per tutti i popoli e la dignità di ogni persona umana grazie grazie a Fabrizio ora diamo la parola a Galieni e mentre Galieni viene al microfono dico a tutta la sala che il 2 dicembre dalle ore 15 alle ore 20 da Piazza Vittorio a Piazza San Giovanni ci sarà la manifestazione regionale cessate il fuoco fermiamo il massacro fine dell'occupazione Palestina Libera quindi invitiamo tutte le compagnie e compagni e gli ospiti che sono qui a partecipare all'assemblea devo accendere ecco qua allora intanto grazie a tutti e a tutte intanto perché soprattutto rincontro compagni e compagne che mi hanno mandato in Palestina mi hanno portato in Palestina penso al compagno Giovanni Russo Spena che è qui davanti a me a Luisa che si è collegata ad Alina Shid con cui ne abbiamo combinate di tante a Youssef penso a compagni che non ci sono più come Dino Frisullo che portò solidarietà reale e alternatività concreta al modo di stare in Palestina io provo a intervenire come giornalista per una ragione molto banale perché credo che la mia categoria in gran parte la mia categoria sia tra le peggiori responsabili di quello che viene raccontato e vissuto oggi quando ti senti dire che tutto è iniziato il 7 ottobre o quanto ti senti dire è tutta colpa degli ebrei sono due cose speculari badate bene significa che quel tipo di deformazione guai a chiamarla informazione è diventata senso comune noi che proviamo a fare il mestiere tentando di di non farlo in questa maniera dobbiamo ribaltare questo senso comune devo dire che io ho il privilegio di collaborare con left e con transform il numero di left di questo di questo mese è dedicato quasi interamente alla palestina e in parte lo sarà anche il prossimo perché tentiamo di fare un racconto che sia più approfondito più più complesso perché la storia è più complessa non è così semplice e bipolare e bibinaria come ce la vogliono imporre ma penso che alcune cose ce le dobbiamo dire io gli interventi che molti degli interventi che ho sentito prima non solo li condivido ma li vivo personalmente quasi empaticamente essendomi rimasti attaccati nella carne e nel sangue ricordi di quando nei campi profughi di Giabalia Gaza o delle case bombardate già distrutte vicino Genin o vicino Tulkarem in Cisjordania ci sono stato ho avuto modo di starci e ho avuto modo di vedere quello che accadeva nell'88 89 non il 7 ottobre non dopo il 7 ottobre quindi non posso far altro che prendere queste testimonianze come elemento di valore queste possono diventare elemento non di propaganda ma di racconto complessivo con accenni diversi con timbri diversi con sensibilità diversi ma con un senso che possa portare al futuro il futuro il futuro non saremo noi a deciderlo sia ben chiaro io mi auguro che arrivino proposte mi preme però dire in un minuto giustamente come chiede Rosa una cosa oggi ho letto in un giornale italiano la splendida proposta di un intellettuale israeliano che propone di dividere Gaza e la Sir Giordania in dei piccoli non li chiama reami li chiama piccoli emirati ecco li definisce piccoli emirati ad amministrazione palestinese allora far entrare nella nostra nella nostra testa questo già c'è esatto Sveva ma farlo diventare idea di prospettiva di futuro significa uccidere il futuro io credo che opporci a questo tipo di istituzionalizzazione di questo tipo di futuro sia un nostro dovere come professionisti ma anche come compagni e compagne che la Palestina non l'abbiamo dimenticata realmente grazie grazie ora c'è Pasqualina Napoletano e poi Petrella e ci dicono che c'è un problema di collegamento su YouTube da un certo punto stiamo non ci sentono se non ci sentono non ci sa però qualcuno fosse interessato sì ma tanto la parola a Pasqualina grazie dell'invito io dichiaro subito che sono d'accordissimo con la relazione di Raul Mordenti non ho niente da aggiungere a quello che lui ha detto introducendo e mi ritrovo moltissimo nell'intervento di Raniero di Raniero Lavalle anche perché l'interrogativo è verso dove stiamo andando e questo ci deve preoccupare io in questo momento tremo quando sento proporre i due stati perché chi lo propone l'amministrazione Bush alcuni cioè alcuni lo propongono in buona fede no perché questa cosa è stata ripetuta 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 e invece adesso questo discorso viene reintrodotto dall'Unione Europea loro sono informati sui fatti quindi se se lo dicono vuol dire che hanno delle cose in testa infatti delle cose in testa ce l'hanno e ce l'hanno da molto tempo a me dispiace polemizzare con Marco Travaglio perché è l'ultima persona con cui avrei voluto farlo però lui ha pubblicato questo libro ieri col giornale dove ricostruisce la storia complessa e di tutto questa cosa quando arriva al punto di Barak e Camp David lui ripete una cosa tritta e ridritta la generosa offerta di Barak e il rifiuto di Arafat che io sottolineo perché quel 2000 è stato l'inizio della fine chiaro? perché in quell'occasione in quell'occasione Arafat fu completamente delegittimato fu additato come il nemico dell'accordo dopodiché lui ripete questa cosa del generoso accordo basta andare a vedere invece un lavoro fatto dai francesi dai giornalisti francesi uno è Enderlin che ha scritto un libro fantastico ricostruendo lui giorno per giorno quello che è successo in quel vertice e poi è stato ripreso da Gresh Gresh lo trovate anche tradotto perché è stato pubblicato dalle monde diplomatique il vero la vera storia di Camp David insieme adesso non ho tempo per dire troppe cose però insieme alla generosa offerta pubblica la mappa e la generosa offerta la vedete come diceva quello gli Emirati allora Palestina e quella parte bianca uno due tre quattro quattro territori divisi da Israele dentro Israele ma con confinante Israele perché non si parla mai di ritiro di colonie si parla di ritocco dei confini chiaro e quindi nessuno intende ritirare se non qualcosa come fece Sharon all'epoca ritirandosi da Gaza e dando così la possibilità di chiudere la striscia tutto intorno naturalmente questa roba qui non ha né la possibilità di avere una difesa uno spazio aereo perché la sicurezza è nelle mani di Israele quindi sarebbero quattro Gazae un po' più grandi Olmert la stessa cosa adesso questo discorso sta tornando perché pare che Bush voglia riprendere un discorso fatto da Trump quando fece l'accordo di Abramo con l'Arabia Saudita e lì c'è un'ipotesi che anche lì è ridefinizione dei confini dove quello che loro chiamano il triangolo arabo viene dato annesso ad una parte palestinese anche questa forse meno frazionata di questa ma tutta dentro Israele circondata completamente e via il Giordano cioè già qui il Giordano non c'è più vedete che c'è Israele verso il Giordano quindi non si potrà chiamare più Cis Giordania ma non si sa come si può chiamare e scordatevi questa cosa che raccontano di Gerusalemme Est Gerusalemme Est è annessa loro la ritengono annessa è finito il discorso e quando parlano di Gerusalemme Barak nominava Abudis che è un piccolo una piccola cittadina sotto un paesello adesso addirittura si parla di chiamare Al-Quds un villaggio alle pendici del del monte di Gerusalemme dove lì si trasferirebbero tutte le ambasciate allora questo combinato disposto che il fatto è finito nel di mille diciotto con una legge costituzionale la Knesset la cosa consolante è che lo scarto di voti è stato piccolo però ha dichiarato Israele stato nazione del popolo ebraico fa capire che noi o andiamo verso appunto andiamo verso tutte e due sia uno stato caratterizzato in senso etnico religioso dove si parla pure di togliere quindi la cittadinanza agli arabi israeliani perché non avrebbero diritto ad avere la cittadinanza in uno stato che sia appunto del ebraico quindi secondo me noi dobbiamo smontare questa roba in un discorso che veda insieme le persone di 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 pace di buonsenso perché per come sono messe le cose in quello spazio è impensabile pensare ipotizzare il fatto che non ci sia una vita in comune sperando di tagliare le gambe sia a chi va verso gli stati etnici religiosi e un po' pure per Hamas perché a Gaza le ragazzine non possono fare sport come i maschi perché un partito religioso io credo che sia da evitare per quanto possibile non certo con le bombe come sta facendo Israele ma cercando di contenerte il consenso agli occhi del popolo palestinese grazie ora abbiamo Riccardo Petrella in collegamento e poi Scalisi Riccardo ci senti? Bello aspetta un attimo che abbassiamo l'audio sì facciamo una prova prova prego Riccardo ciao buonasera buonasera ti sentite? sì ti sentiamo va bene allora posso andare perché io vi sento un po' da lontano però vi sento ecco prego sì buonasera a tutti e a tutti grazie per l'invito i tempi essendo molto stretti vado subito telegraficamente a quello che ho desiderio di di dire il primo giusto un'informazione il nove novembre scorso per l'iniziativa di un gruppo internazionale di avvocati specie del mondo del Medio Oriente è stata presentata la denuncia alla corte penale internazionale per genocidio a altri crimini di guerra non è una denuncia con accusazione ad persona ma si domanda alla corte penale internazionale di effettuare l'inchiesta e quindi procedere in base ai risultati dell'inchiesta alle necessarie condanne collettive per quanto riguarda effettivamente quello che senza dubbio tutti stanno riconoscendo essere una delle forme più avanzate di genocidio che sia stato perpetrato nei secoli scorsi per dire che effettivamente perché noi come agorati degli abitanti a terra siamo stati parte presa in quanto testimoni e non in quanto vittime ma segnalo per appunto che c'è anche la denuncia con delle vittime quindi questo è giuridicamente molto importante e la decisione di questa denuncia la corte per l'internazionale è soprattutto stata motivata da parte dei promotori dal concetto di dire qui non si può mai stare zitti di fronte a tutto ciò che sta succedendo dov'è il diritto e qui riprendo un pochino quanto Manu Pineda ha 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 detto nel senso che oggi il grossissimo problema che solleva la guerra di Israele contro la Palestina e i popoli palestinesi è che il diritto è andato a pallino il diritto non esiste più non si può più parlare di stato di diritto in Italia come in Israele come in Russia come in Ucraina come negli Stati Uniti perché in fondo eh tutto a questa decisione deliberata di sterminio del popolo palestinese sta avvenendo con nessuna grande eh reazione da parte dei dominati di quelli che potrebbero effettivamente mettere fine a questa guerra e quindi con il anzi la complicità non solo degli Stati Uniti ma anche come è stato già detto molte volte ora qui dall'Unione Europea quindi l'Europa l'Unione Europea è dolorosissima allora sta diventando una società che non è più fondata sullo Stato di diritto è grave e che gli Stati Uniti che tutto il mondo occidentale che si è sempre ingorlionito di essere uno Stato di diritto è una menzogna è una schifezza e quindi il problema del diritto diventa fondamentale anche perché non c'è più problema del diritto internazionale che è andato a pallino è il diritto della società organizzata come Stato di diritto che è andato a pallino e quindi il mio primo invito è di dire in termini di riflessioni perché per questo sono qui a partecipare un pochino alla riflessione è che la società civile la gente che si batte per la libertà e la giustizia in Palestina dovremmo tutti insieme fare una grande campagna mondiale sul diritto il diritto oggi è una parola vuota si piange effettivamente si deve piangere del fatto che donne e bambine a casa siano sterminati ma ho fatto un calcolino ieri sera nel 2022 sono morti un milione e trecento quaranta mila bambini al di sotto dei sei cinque anni per la fame e la gente sembra che accetti che sia la gente che muore per la fame secondo l'organizzazione mondiale della salute oggi ci sono 3,6 miliardi di cui più di 30% bambini che non hanno nessuna copertura sanitaria e dicono che ci saranno 5 miliardi di persone nel mondo nel 2030 senza copertura sanitaria e questo fatto non dice praticamente non smuove niente 5 miliardi senza copertura sanitaria e quant'è che se ne parla dov'è la battaglia e addirittura le battaglie per il diritto all'acqua battaglie per il diritto alla salute il diritto all'educazione il diritto all'alloggio contro la povertà e si sono indebolite oramai la comunità internazionale ha accettato che ci sia una povertà assoluta la comunità internazionale ha accettato che ci siano 4 miliardi di gente che non ha accesso regolare all'acqua potabile sana quindi chiudo questa storia dicendo invito a noi tutti organizzazioni società civile eccetera mondo universitario accademico forze politiche di fare una riflessione profonda sui diritti e il diritto nella società contemporanea mondiale seconda riflessione che sarà ancora più rapida quello che ha motivato gli avvocati a presentare la denuncia dalla corte penale internazionale è stata praticamente l'assenza di una responsabilità mondiale chi è responsabile oggi di tutte queste cose cioè nel senso responsabile che può portare una soluzione una soluzione fra Israele e gli stati arabi una soluzione fra Israele e la Palestina nessuno ci pensa che sarà risolto così una soluzione tra Israele e Unione Europea che interviene una soluzione in cui l'ONU interviene l'ONU per la prima volta il segretario generale ha fatto qualche posizione Riccardo dovresti avviarti alla conclusione gli Stati Uniti non vogliono una soluzione e allora che si fa è la mia proposta di dire che dobbiamo lottare per far emergere una responsabilità mondiale collettiva noi dobbiamo fare campagne di denuncia etiche contro gli Stati Uniti contro l'Unione Europea non tanto solo politica ma denuncia umana dobbiamo discreditare il potere dei dominanti attuali dobbiamo eliminare la legittimità di loro di avere dei poteri io credo che questo sia importante nella seconda riflessione vi ringrazio grazie grazie a Riccardo Petrella ora Scalisi e poi a Ricale Scalisi Arci stiamo accendo però Vito perché ho Scalisi perché questo non ha fatto la presentazione non fa nulla Scalisi Presidente di Arci Roma vi ringrazio tutti dell'invito ringrazio la rifondazione Casa Internazionale delle Donne che ha accolto questa iniziativa e vi ringrazio anche a nome di Walter Massa Presidente di Arci Nazionale che era stato invitato e che porta i suoi saluti diciamo che questa questa assemblea un po' ha rimesso in fila il giusto linguaggio la giusta narrazione per cui non non riparterò da quello che ho già sentito che condivido tutti gli interventi che mi hanno proceduto io scenderei un po' su un po' come su effettivamente fatti di cronaca o comunque su quello che abbiamo vissuto dopo il 7 ottobre e interrogherei un po' le contraddizioni che abbiamo vissuto nel nostro paese le contraddizioni che diciamo sono apparse evidenti all'indomani del 7 ottobre in un'impasse complessiva che ha vissuto tutta la compagine di sinistra italiana internazionale diciamo nel prendere una posizione come se quel giorno improvvisamente fosse stato il primo giorno in cui come dire fosse sorto il problema in Palestina un imbarazzo non giustificabile non giustificabile di tutte le organizzazioni di sinistra che da sempre vicine vicine alla Palestina ai palestinesi a rompere quell'imbarazzo che stiamo parlando di diciamo personaggi come Zero Calcare sono stati infangati non si poteva prendere parola in Francia di vieti di mobilitazione persino Gutierrez è stato insultato per aver detto che non nasceva tutto quel giorno il velo è stato squarciato solo dalle mobilitazioni in qualche modo e in particolare l'unica grande manifestazione che si è svolta a Roma è stata quella del 28 una negli altri nelle altre capitali ne stanno facendo di più per cui siamo in ritardo anche su questo una che ha visto una grande partecipazione 50.000 partecipanti a quella mobilitazione senza le grandi organizzazioni nazionali di sinistra permettetemi di dirlo ma lì non c'erano lì c'era un altro popolo un popolo fatto di giovani soprattutto io c'ero e la gran parte erano giovani oltre ai palestinesi la gran parte per cui i giovani probabilmente hanno capito e compreso prima di di noi delle generazioni che hanno attraversato la solidarietà ai palestinesi cosa qual era la giusta posizione da prendere permettetemi di dirlo anche in maniera provocatoria l'hanno compreso l'hanno compreso immediatamente gli studenti e su questo secondo me dobbiamo interrogarci su qual è diciamo io lo dico a rifondazione lo dico perché insomma come appartenenza a questo mondo di sinistra e dell'Arci l'Arci di Roma ha fatto da subito una scelta l'Arci di Roma ha scelto di non muoversi in iniziative senza i palestinesi noi abbiamo aderito a un comitato a un coordinamento che tra l'altro si riunisce costantemente alla SNIA tutti i lunedì sera e abbiamo scelto è una scelta una posizione che io non ho visto diciamo complessiva è chiaro che è una scelta complicata complicata lì dove chiaramente ti costringe ad aprire delle considerazioni che sono emesse chiaramente oggi a distanza però di 30 giorni in un'iniziativa completa che probabilmente è una delle prime che vedo complete di analisi ma non nei primi 15 giorni dopo il 7 ottobre io credo che anche lì abbiamo commesso degli errori e su questo ci dobbiamo interrogare la cappa di silenzio mi è tornata in mente un episodio perché nel nel 2019 quando il cinema Aquila un cinema confiscato dalla mafia al Pigneto venne chiuso ci mobilitammo in occupazione in quel cinema insieme a diciamo le associazioni territori centri sociali all'Arci e attiviamo una serie di percorsi di programmazione condivisa delle proiezioni di quel cinema andammo avanti circa due mesi finché non inserimmo in calendario tre pellicole suggerite dal BDS e promesse dal BDS ci arrivò una letta dal municipio e dal comune all'epoca c'era una raggi che ci vietava di effettuare la programmazione complessiva per cui rimanemmo un po' di stucco fino a che prima di comprendere nel dettaglio si trattasse del problema di quelle tre pellicole io mi è tornato in mente nella misura in cui credo che Israele si sia mossa ben prima nel diciamo come dire prendere posizioni hanno lavorato molto sul annichilire iniziative culturali e politiche solidarie alla Palestina da te che voglio dire erano nettamente diminuite non ce n'erano più non parlavamo più di Palestina né a livello culturale né a livello di integrazione è un altro io pongo anche questo tipo di propagazione e non è un caso che probabilmente i media erano già controllati perché quando è successo il fatto di settimana è inaccettabile che la nostra stampa nazionale abbia sostanzialmente fatto propaganda filo israeliana inaccettabile oggi mi accorgo se aprite Repubblica Corriere non si parla più le notizie di Gaza sono scese in terzo quarto piano cerchiamo di analizzare anche questo sicuramente lo fa meglio di me Stefano Galieni ma è evidente che anche lì si risponde a una logica di propaganda filo israeliana non mi dilungo tanto perché andiamo a chiudere sicuramente ci saranno anche tanti altri interventi io sulla questione diciamo il 28 ottobre diciamo alcuni dei partecipanti a quella mobilitazione tolsero la bandiera di Israele della FAO a mio avviso hanno fatto bene perché Israele non merita di stare dentro l'ONU non merita di stare dentro l'ONU Israele non merita di stare perché schiaccia costantemente non riconosce quell'organismo eppure lo blocca e devo dire che è anche stato veramente deludente vedere l'assenzionismo dell'Italia su una mozione che chiedeva diciamo di aiuti umanitari in quella zona è veramente veramente sgradevole e non è un caso anche che diciamo Stati Uniti d'America e Israele abbiano bloccato diciamo una mozione che chiedeva la fine dell'embargo a Cuba lo dico collateralmente ma anche lì solo due stati si sono opposti e Stati Uniti e Israele e per me anche questo è molto significativo io dico per quanto riguarda l'ONU c'è una lettera io credo che in tanti l'abbiamo lettera è letta quella lettera si si vado a leggere vado a chiudere quella lettera mi ha molto colpita del direttore dell'ufficio di New York delle Nazioni Unite diciamo dove ha dichiarato sostanzialmente le sue dimissioni in quella lettera c'è tanto c'è spiegato tutto quello che anche è stato detto oggi e sostanzialmente lui parla di un genocidio da manuale è questo proprio il criterio ed elenca dieci punti dove tra l'altro riprende un po' le considerazioni fatte qui sulla questione dei due stati e dei due popoli e la definisce una falsità sostanzialmente anzi io utilizzo proprio le sue parole per non sbagliare perché lui parla di un'azione legittima proprio al primo punto un'azione legittima purtroppo mi è andato via un'azione legittima eccolo qua un'azione legittima in primo luogo noi delle Nazioni Unite dobbiamo abbandonare il fallimentare in gran parte falso paradigma di Oslo la sua illusoria soluzione a due stati il suo impotente e complice quartetto e la sua sottomissione del diritto internazionale ai dettami di una presunta convenienza politica è chiarissimo e subito dopo non ne leggo altri parla di chiarezza e divisione dobbiamo smettere di fingere che si tratti semplicemente di un conflitto per la terra o la religione tra due parti in guerra e ammettere la realtà della situazione in cui uno stato dal potere sproporzionato sta colonizzando perseguitando ed espropriando una popolazione indigena sulla base della sua etnia è chiarissimo ce ne sono altri otto punti in cui suggerisce le soluzioni è chiaro Maya è stata più che chiara diciamo qual è il percorso e quali sono le idee dei palestinesi così come Yusef ho ascoltato tutti gli interventi chiudo solo dicendo che ricordando che un appuntamento è lanciato dal comitato lunedì sarà la giornata dell'infanzia internazionale ci sarà un appuntamento a piramide alle 18 lanciato dal coordinamento per ricordare le migliaia e migliaia di bambine e bambine uccise a Gaza per cui mi invito alla partecipazione in quell'occasione viva la Palestina libera grazie e chiedo ancora scusa per non avere detto tutto allora adesso c'è Michela Arricale del comitato Angelo Baracca e CRED perché e abbiamo cinque minuti sì sì vai sarò precisissima allora buonasera a tutte e tutti grazie per avermi per avermi invitata io qua stasera intervengo sia come giurista che come militante comunista e come giurista ovviamente faccio eco a tutte le cose che sono state già dette con la nostra associazione abbiamo sottoscritto questa prima denuncia alla Corte Penale Internazionale con cui si chiede l'arresto immediato di Netanyahu e di tutti gli altri dirigenti del governo israeliano che sono che sono colpevoli del genoscidio del popolo gazzawi del popolo palestinese in questo momento ma attenzione noi non siamo solo contro il governo di oggi perché non è solo questo governo israeliano che ha annichilito il popolo palestinese bensì sono i governi degli ultimi settantacinque anni ecco in questo i governi israeliani che noi andiamo a combattere la loro idea è una loro idea che è tutta liberale lo stato liberale è quello stato che dice che alcune vite sono più importanti di altri e lo stato fascista lo stato nazista è una degenerazione dello stato liberale così come Israele oggi vive una degenerazione è uno stato non legittimo perché è uno stato coloniale perché è uno stato che si appropria delle risorse di altri popoli per arricchirsi e campare non voglio soffermarmi sulle analisi che sono state tante e sono state assolutamente pertinenti e puntuali io vorrei sottolinearmi su che cosa possiamo fare allora gli avvocati giuristi alla corte penale internazionale per far vivere la legalità internazionale e il diritto internazionale ok ma che cosa possiamo fare noi persone noi collettivi politici individualmente e in forma collettiva per sostenere la giusta causa del popolo palestinese e costringere le istituzioni conniventi complici perché l'Italia e tutti gli altri paesi che fanno parte della comunità internazionale hanno un preciso obbligo di intervenire per evitare che vengano commessi dei crimini del popolo del popolo palestinese e allora domani abbiamo convocato un'assemblea dove lanceremo il nostro programma e il nostro invito anche a tutte le altre realtà al boicottaggio disinvestimento e sanzioni nei confronti di Israele boicottaggio disinvestimento e sanzioni che sono i tre livelli a cui noi come individui e come gruppi collettivi dovremmo muoverci individualmente attraverso il boicottaggio il boicottaggio delle aziende israeliane che utilizzano le risorse palestinesi per per arricchirsi disinvestimento e sanzioni è un livello un po' più alto perché le sanzioni lo mette lo Stato quindi la nostra è una pressione che va fatta nei confronti delle istituzioni perché si attuino delle sanzioni contro Israele a partire dall'immediato stop di tutti gli accordi di cooperazione militare di tutti allo stop di tutti gli accordi di cooperazione commerciale da partire lo stop di tutti sulla cooperazione universitaria io non so perché le università sono fondamentali per creare ponti però possiamo discuterne aziende e istituzioni vanno assolutamente boicottate domani inizieremo lanciando una prima giornata di mobilitazione per il boicottaggio che verrà proposta per il 2 dicembre e abbiamo già individuato però domani si discuterà due azioni una contro la catena di supermercati Carrefour domani spieghiamo perché è stata individuata quella come oggetto della prima giornata di boicottaggio e l'azienda che si occupa del commercio di farmaci Teva si chiama Teva quando andate in farmacia e chiedete un farmaco generico ricordate di chiedere di dire al farmacista mi raccomando che non sia Teva ecco queste sono le prime le prime azioni concrete poi domani a partire da domani a partire dalle 10 all'intifada a via Casalbruciato costruiremo insieme con tutti i partiti e le associazioni che hanno aderito il nostro percorso di mobilitazione individuale collettivo a sostegno del popolo palestinese grazie grazie a Michela ora c'è Fabio Alberti e poi Giovanni Russo Spena devo accendere così molte cose state dette e il tempo è poco quindi me la caverò intanto ringraziando Raul per l'introduzione veramente ispirante e che condivido in pieno e poi ringraziando Ali Rashid per aver richiamato la storia coloniale europea che a mio parere è importante d'altronde cosa è stato il nazismo se non il fare su una popolazione europea quello che tutti gli stati facevano senza che nessuno protestasse alle popolazioni africane la deumanizzazione che in Europa avveniva nei confronti delle popolazioni ebraiche è la stessa deumanizzazione che l'Europa ha fatto a partire dalla conquista delle Americhe e poi dalla come si dice dalla spartizione dell'Africa in questo senso Israele si è fatta Europa nel senso che si è fatta la peggiore dell'Europa e richiamare la responsabilità europea è secondo me importante e penso che sia importante allontanarsi un po' mi voglio allontanare geograficamente e storicamente geograficamente la Palestina è in mezzo al Mediterraneo se noi guardiamo il Mediterraneo dalla Turchia il conflitto con i kurdi alla rivoluzione siriana ripressa del sangue 12 milioni di sfollati vogliamo continuare l'Egitto in Libia il conflitto marocco Sarawi non c'è paese di quest'arco di crisi questo non sminuisce quello che avviene in Palestina come è ovvio ma non c'è paese di quest'arco di crisi che non sia guerra sfollamenti è tutto lo sapete e allora io penso che noi dobbiamo cercare di capire non cercare soltanto nella vicenda ebraica palestinese palestina questa questione qui cioè cos'è che non funziona allora c'è una cosa che unisce tutti questi paesi ed è il fatto che tutti questi paesi erano parte dell'impero ottomano smembrato dall'Europa nella prima guerra mondiale e che quello che noi vediamo davanti a noi è il fallimento del processo di decolonizzazione e in che cosa è avvenuto questo fallimento ci sono due eleme premettendo che la storia è sempre più complessa di come la disegniamo è che nulla dipende da una sola cosa però due elementi uno il processo di decolonizzazione è avvenuto come dire scegliendo dell'elite arabe o locali per costruire alleanze che ne garantivano il rimanere al potere a prescindere dall'appoggio popolare cioè poteri che stavano lì solo perché avevano qualcuno da fuori europeo delle volte russo ma sempre europeo che gli permetteva di rimanere su e poi la funzione economica che a quest'area è stata data non il co-sviluppo mediterraneo ci si è provato con Barcellona ma poi dopo terra di risorse e banno d'opera risultato uno dei posti nel mondo dove più indietro è il cosiddetto sviluppo umano cioè dove non c'è stato nulla e poi c'era l'altro elemento su cosa è stata costruita la decolonizzazione è stata costruita sull'idea ottocentesca europea dello stato nazione anche lì dove le nazioni non c'erano state costruite delle nazioni per giusti e in Palestina lo scontro avviene anche perché questa idea dello stato nazione che poi è stato se nazione etica o religiosa ma se c'è dello stato che è proprietà di una e beh in fondo è lì l'illusione che costruire il proprio stato avrebbe garantito la sicurezza e i diritti è la dignità delle popolazioni ebraiche è un'illusione che però viene da come dire viene da da rinascimento da risorgimento perché questa idea i fondatori del sionismo l'han presa in Italia da risorgimento italiano quando prima si è costato abbiamo fatto l'Italia adesso facciamo gli italiani no? allora io penso che non so come si risolve ci vuole molta più fantasia di quelle che io però io penso che noi dovremmo ricominciare a vedere la vicenda palestinese come uno degli aspetti di un fallimento complessivo della colonizzazione del processo di colonizzazione europeo dell'ex impero ottomano c'è un problema da affrontare complessivamente rispetto a rispetto a questa cosa e sicuramente questa questione dello stato nazione onore ai kurdi che hanno detto noi non vogliamo lo stato kurdo che sono arrivati a concepire questa idea che basta con gli stati legati alla singola entità ecco sicuramente negare l'idea di stato nazione forse è uno degli strumenti che ci permette gli strumenti concettuali che ci può permettere di affrontare la questione palestinese come non lo so ma io penso che noi dobbiamo pensare in fondo quando a ventonele a ventotenele hanno pensato all'Europa l'Italia era potere quindi se tu dicevi a qualcuno facciamo l'alleanza con la Germania forse era fuori dal mondo e quindi come dire l'importante sono i concetti io penso che noi dobbiamo molto ragionare oltre a manifestare condannare eccetera grazie grazie ora la parola a Giovanni Russo Spena e poi a Felice Besostri buonasera a tutte e tutte la qualità della relazione di tutti gli interventi ci dimostrano la qualità della relazione e di tutti gli interventi ci dimostrano innanzitutto che noi non siamo tutti e tutti palestinesi un giorno sì e un giorno no come troppi dirigenti politici del nostro paese ma noi pensiamo palestina ogni notte ogni giorno da decenni probabilmente più anziani di noi o anche più giovani da meno anni e questo è un segno importante infatti questo convegno io lo ritengo molto importante questo è un segno importante perché accanto alla morte del diritto di cui parlava appunto Petrella prima noi abbiamo avuto anche in tutti questi anni la morte dell'internazionalismo è una cosa molto e molto grossa io ricordo io ricordo io ricordo davanti a me il mio maestro Danilo Lavalle a cui voglio un sacco di bene e Danilo Lavalle quando Danilo se lo ricorderà di ero un giovane parlamentare un po' al suo seguito andammo in Iraq come interpositori di pace per tentare di evitare la prima guerra nell'Iraq io ricordo quando a proposito i due popoli i due stati io ricordo che quando Youssef lo sa alle 5 di mattina ci riceveva ad Algeri Arafat quando ci aveva fatto aspettare fino alle 5 di mattina poi arrivava ed era una grossa discussione non credo di dire nulla ma non è stato mai scritto nulla di riservato Arafat in effetti anche dopo Oslo Arafat non credeva a due popoli due stati questo è un punto fondamentale della riflessione che dobbiamo fare adesso la faceva molto bene la riprendeva Fabio Alberti prima la faceva Danilo Lavalle io credo che noi dobbiamo discutere a fondo questo tema della deumanizzazione decolonizzazione è una triade è dello Stato-Nazione che io credo abbia una grande attualità noi con il MAZ con i kurdi con il comitato per la liberazione di Ocalan abbiamo avuto quattro giorni fa una manifestazione all'unità all'università l'unità non c'è più all'università Roma 3 con tante ragazze e tanti giovani in cui abbiamo discusso con queste ragazze e questi giovani del confederalismo democratico dei libri di Ocalan e che io credo che forse se noi continuassimo questa riflessione importante di oggi con la riflessione se noi continuassimo questa riflessione importante di oggi anche con la riflessione su quel che diceva Raniero a Fabio sul confederalismo democratico sarebbe molto importante invece in tre minuti due questioni che invece ci stanno davanti ogni giorno come dire come operatori politici e come militanti e da giurista devo dirlo qui vi sono in Italia due macigni nella discussione che ogni giorno facciamo nell'assemblea e con le persone che incontriamo il governo israeliano compie un genocidio stamattina ho dovuto appunto polemizzare con una trammissione radiofonia con Bruno Vespa che è diventata una roba veramente irritante beh io citavo appunto citavo i canoni fondamentali del diritto internazionale perché a questo punto vanno ricordati mettiamo nei nostri volantini è la convenzione ONU del 9 dicembre del 1948 che regola prevenzione e repressione del delitto di genocidio ove per genocidio cito si intende indicare atti che vengono commessi con l'intenzione di distruggere in tutto in parte un gruppo nazionale etnico raziale o religioso il genocidio continua non può essere giustificato come tenta peraltro di scrivere Galli della Loggia quasi ogni giorno invocando il diritto di difesa che l'articolo 51 della Carta delle Nazioni Unite riconosce ad ogni Stato che sia vittima di un'aggressione armata secondo punto fondamentale che è un altro macigno che dobbiamo sconfiggere nella polemica nella polemica quotidiana è questa dell'antisemitismo chi critica chi critica Israele il governo israeliano perché commette genocidi crimini contro l'umanità è antisemita noi non siamo antisemiti ovviamente io poi personalmente per ragioni familiari non lo potrei mai essere perché l'antisemitismo e dobbiamo anche comprendere e dirlo anche a noi stessi ai nostri giovani ai nostri ragazzi perché li frequento appunto come in tutti i circoli e sentiamo alcune cose l'antisemitismo vorrebbe cancellare dalla terra persone perché sono ebree ma l'ebreo non si definisce per etnia né tantomeno per razza che è un concetto che antropologicamente non esiste l'antisemitismo certo esiste nella destra fascista soprattutto che oggi tanto appoggia il diritto di difesa di Giuseppe credo lo dicesse bene Raul e cresce l'antisemitismo in maniera preoccupante anche come reazione appunto alla folle disperata crimini contro l'umanità dello Stato di Israele vi è certo un antisemitismo storico anche nel mondo operaio anche nelle sinistre e vi sono molti ebrei con simpatia naziste come due certamente due governanti oggi dello Stato ebraico e non dimentichiamo mai rivendichiamolo da comunisti il più bel discorso contro l'antisemitismo a mio avviso lo fece Lenin nel 1914 ecco quello è la base fondamentale nel nostro discorso e questo è tanto più vero in quanto lo ricordava sempre Raniero oggi noi ci troviamo a discutere di Israele dopo il 2018 come Stato degli ebrei come Stato degli ebrei e allora qui una chicca e poi finisco un minuto quando Mieli che oggi è un po' il capo dei giornalisti italiani che ci chiamano antisemiti lo sentiamo continuamente quando scrive mentre ai tempi di Dreyfew gli standardi dell'odio contro gli ebrei erano ben saldi nelle mani della destra oggi in tutti i paesi d'Europa compresa l'Italia l'asta di quelle bandiere è impugnata da mani di sinistra a partire da quegli imbecilli stupidi ignoranti che sono gli studenti ecco qua faccio solamente due due osservazioni la prima è che questa interpretazione di Mieli e di tanti altri appresso a lui assolve gli eredi politici dei partiti fascisti è che sono strutturalmente gli antisemiti anche in Italia i governanti italiani sono stati basta ricordare i loro scritti strutturalmente antisemiti e poi l'altra cosa che bisogna ricordare è che invece sono molto più numerose e chiudo le dottrine ebraiche politiche e no rappresentate da menti attive internazionalmente autorevoli e da molti cittadini israeliani che si oppongono alla legge dello Stato nazionale approvato nel 2018 che dice lo Stato di Israele è lo Stato non di tutti i cittadini ma esclusivamente del popolo ebraico quindi caro Mieli ti chiediamo anche gli editorialisti di Arez e di Jerusalem Post sono antisemiti siamo veramente arrivati col giornalismo italiano come diceva Galieni alla banalità del male grazie a Giovanni Russo Spena ora c'è Felice Besostri poi Musacchio poi abbiamo un altro Imaz Orkan e poi facciamo il punto ringrazio per questa opportunità dover affrontare tutti gli aspetti di questa questione non basterebbero cinque minuti ma non basterebbe un giorno intero però alcune cose sono state accennate innanzitutto sulla scomparsa dell'internazionalismo dove c'è un suo surrogato che si chiama europeismo acritico che sostituisce io faccio una prova spesso nelle assemblee la provo anche qui di dire chi si ricorda la terza strofa di bandiera rossa alzi la mano e beh ecco allora questo qui è già un segno capisci avanti popolo non più frontiere stanno i confini rosse bandiere possibile che io quando avevo 60 anni fa ma forse anche più che ero un giovane appena arrivato la politica la cantavo pur essendo scritto il partito socialista perciò vuol dire che qualcosa in questi anni abbiamo sicuramente perso della memoria e di alcune linee guida io però vorrei adesso fare un ricordo perché me l'ha ricordato un recente articolo passo sul manifesto mi è sfuggito il primo ma il secondo di Luciana Castellina che ha ricordato Wildsweiter bene l'anno scorso erano 50 anni che è stato assenato Wildsweiter credo che non si sia ricordato questo anniversario eppure 50 anni sono esattamente la metà dei cent'anni dell'assassinio di Matteotti allora ho cercato di approfittare di questa occasione del centenario del cinquantenario e ho proposto alla fondazione Matteotti di fare un premio intestato a due persone uno è Wildsweiter e l'altro purtroppo l'ho appreso oggi volendo aggiornarmi era Latif Dori un ebreo iracheno che erano perfettamente d'accordo tant'è che cercarono il contatto e si riuscì a realizzarlo a massimo livello allora di un partito sionista di sinistra come era il Mapam che non c'è più anche questo in Israele e doveva incontrarsi Wildsweiter con Perez Mercaf quello che ha scritto la storia del movimento operaio ebraico operaio tutto nel suo insieme per ciò che teneva conto del sionismo e soprattutto anche del Bund perché è stato un movimento di liberazione nazionale perché noi pensiamo anche qui a volte inconsapevolmente che gli ebrei sono i finanzieri o sono soltanto o per la maggioranza lo sono mentre invece nell'Europa orientale c'erano masse poverissime di ebrei e perciò questo è un'altra cosa che si chiamava Latif Dori lui ho scoperto che è morto quest'anno invece e la prima cosa che mi aveva detto Wildsweiter dice noi vogliamo dalla sinistra europea per la sua storia e le tradizioni non che sia filo palestinese e men che meno filo israeliana ma che ci serva a creare un ponte tra noi e chi in Israele vuole risolvere questo problema io credo che questa sua indicazione sia ancora valida poi poter dire due due popoli due stati è stato un periodo però dire anche che questa roba non vale più e non c'è possibile una cosa cosa dobbiamo dire se allora c'è grande Israele che va dal Giordano al mare c'è stato anche lo slogan Free Palestine from the river senza nominarlo to the sea però anche in quel caso il river è il Giordano e il sea è il Mediterraneo se dovesse prevalere questa idea che l'unica soluzione è quella che ci deve essere uno stato solo per di più magari nazionale perché se vinceva Hamas questo stato doveva essere come l'Iran non era molto diverso e come qualcuno l'ha ricordato della storia che le bambine di Gaza non possono fare allora questo vorrebbe dire che non abbiamo niente da fare che dobbiamo rinunciare alla speranza però nel momento in cui si rinuncia alla speranza innanzitutto dobbiamo rinunciare alla nostra umanità e rinunciamo anche a fare politica allora se non c'è uno solo due popoli due stati che ci deve essere uno stato laico democratico dove ci possono stare tutti quanti assieme ma non non uno stato chiunque lo governi che sia unico in base dal detto compagno uno stato nazione basato su un'idea che chi vive lì ha una missione e ha uno scopo ecco io credo che questo dobbiamo essere tutti d'accordo grazie grazie proprio su un punto che dico in uno slogan io penso che la lotta per la liberazione della palestina va bene come così corrisponda alla lotta per la liberazione dell'Europa cioè io vedo una una connessione perché l'internazionalismo non è un fatto astratto l'internazionalismo è un fatto di classe naturalmente ma va contestualizzato alla condizione in cui siamo io penso che noi dobbiamo ragionare sull'Europa per quello che è adesso e in particolare nella sua forma specifica che l'Unione Europea ne parlavo prima con Raniero Laval scusa Roberto per cortesia si sente il brusio fino a qui vi pregherei di non di non parlare sì grazie perché abbiamo molto discusso di questa storia della forma stato delle responsabilità storiche della forma stato c'è un vecchio colonialismo che nasce attraverso le forme stato che promuove questa forma stato che parte dall'Europa che è protagonista diciamo così del capitalismo della generalizzazione del capitalismo poi c'è una fase di speranza e sarò detto si ricordava Arafat che spera nell'Europa l'Europa del modello sociale quella segnata dal movimento operaio quella del ripudio della guerra dopo le due le due guerre mondiali dopo la liberazione dei nazi fascisti c'è un'Unione Europea contemporanea io penso che noi fatichiamo a comprendere e noi io sono molto d'accordo con la relazione però noi troppo spesso consegniamo all'Unione Europea semplicemente un'articolazione dell'imperialismo americano io penso che siamo in una fase diversa che gli Stati Uniti d'America mantengono una forma statuale l'Unione Europea ha assunto una forma postmoderna postdemocratica in cui c'è una congiunzione drammaticamente originale tra una capacità di gestione del capitalismo globale finanzializzato dei ceti rappresentati da personaggi come Ursula von der Leyen ma non solo se avete letto la relazione che ha fatto al Financial Times recentemente Draghi un guerriero dice che bisognava fare la guerra alla Siria che non bisognava fare entrare la Russia nel G8 dopo aver mantenuto tutti i rapporti di potere economici per decenni con la Russia post sovietica e i nazionalismi tutti che non è che sono semplicemente tollerati ma sono evocati atto fondativo dell'Unione Europea è la dissoluzione dell'ex Jugoslavia noi stiamo parlando dell'esigenza della necessità di stati multietnici capaci di far convivere eccetera che cos'era la Jugoslavia se non una cosa di quel tipo è stata fatta a pezzi naturalmente per ragioni interne ma anche perché era fondativa della nuova fase di guida del capitalismo globalizzato e di nuova capacità colonialista dell'Unione Europea con una forma Ragnaro tu hai detto bene lo Stato ha dentro di sé la forza e tu hai detto non ve la prendete neanche con la religione eccetera eccetera perché poi c'è un elemento besiano ma questi non sono neanche uno Stato noi abbiamo una banca Stato abbiamo uno Stato in cui l'elemento fondamentale della rappresentanza senza la quale non ci poteva essere diciamo neanche la tassazione non esiste una forma che si auto perpetua si autonomina e crea promessi che evocano appunto processi drammatici e pratica il doppio standard il nome del suprematismo che viene conclamato dall'Unione Europea qui l'azione che noi dobbiamo fare bene ed è importante che a differenza che sull'Ucraina ci siano manifestazioni in Europa sulla questione palestinese perché c'è particolarmente in alcuni paesi la stessa Gran Bretagna uscita dall'Unione Europea una consapevolezza bene perché questa aggredisce un punto fondamentale che è il doppio standard Ursula von der Leyen che va in Israele è una vergogna per le cose che ha detto e che ha fatto addirittura non celebrare i morti palestinesi scusate se dico una cosa banale quella sera andava in onda una partita di calcio in Gran Bretagna gestita dalla UEFA che è l'organizzazione europea del calcio c'è stato il minuto di silenzio per le vittime israeliane non per le vittime palestinesi il campionato di calcio inglese ha fatto il minuto di silenzio per le vittime palestinesi questo è Ursula von der Leyen doppio standard quello che si può fare per il Kosovo non si può fare per il Donbass quello che si può fare contro Putin non si può fare contro Netanyahu questa forma va combattuta e noi europei dobbiamo nella lotta per liberare la Palestina intrecciare la lotta per liberare l'Europa perché altrimenti diciamo non siamo all'altezza della nostra istituzione finisco ho detto di Ursula von der Leyen le leggi di Israele sono incompatibili con la presenza in Europa quella roba lì dello stato etnico religioso viene messa di fronte alla Serbia per impedirgli di entrare nell'Unione Europea quella storia della giustizia in mano al Parlamento e non più alle corti di giustizia è quella cosa che viene agitata contro la Polonia e contro l'Ungheria o no Pasqualina che lo sa benissimo in una forma selvaggia da questo punto di vista e invece viene tollerata ma sulla forza di questo suprematismo del doppio standard di questo nuovo ruolo dell'Unione Europea che fin qui siamo stati incapaci di affrontare e di contrapporci grazie ora abbiamo l'intervento di Matt Orkan dell'Ufficio Informazioni per il Kurdistan e poi diamo la parola per l'ultimo intervento a conclusione della giornata a Maurizio Scerbo segretario aspetta un attimo allora poi vediamo buonasera tutte e tutti molto grazie per l'invito questo convegno secondo me anche abbastanza importante per me anche è un onore partecipare a un convegno che questo periodo purtroppo molto brutto per Medio Oriente specifico per il popolo palestinese io vorrei un po' dire punti importanti perché comunque sia il tempo è abbastanza corto anche questo momento parlare molto un po' inutile mi sembra soprattutto portato saluti il popolo kurdo e il comitato kurda in Italia comunque quando è successo quasi 40 giorni fa queste cose è passato 40 giorni migliaia di persone sono morti però ancora purtroppo sia paesi arabi sia paesi occidentali sono non riuscito concretamente fermare questa guerra questo conflitto perché io personalmente aspettavo che almeno paesi occidentali subito chiedano un cessato fuoco però non è successo gli ultimi giorni consiglio sicurezza ha preso una decisione di regua purtroppo nemmeno non hanno capacità di praticare questa cosa tutte quelle cose conosciamo un po' perché 2018 quando Turchia ha attaccato Afrin è successo la stessa cosa per quello noi sappiamo che i popoli anche i popoli occidentali sempre sono con il popolo palestinese con noi però purtroppo stati nazioni per interessi non muovono non vogliono fare niente anche vorrei dire che Israele deve sapere molto bene con le politiche di sicurezza difesa non si può risolvere questo problema quando volontà umanità può distruggere tutta tecnologia eccetera come abbiamo visto se ha anche una copola di acciaio eccetera per quello serve un progetto politico un progetto convivenza perché il problema palestinese non è un problema diritti umani un problema riconoscimento un problema un progetto politico per questo motivo servono queste cose anche vorrei chiedere tutti i compagni palestinesi movimenti secondo me questa volta non dovete perdere non dovete far scappare questa cosa dovete unire dovete portare un progetto politico abbastanza forte per risolvere questo problema altrimenti ogni giorno con conflitto con uccisione la fuga tutti palestinesi un giorno vedete che non ci sono tutti di più palestinesi sul territorio perché noi successo non deve succedere questa cosa per quello dico viva liberazione popolo palestinese anche viva fratellanza i popoli grazie mille allora ora va proiettiamo il video perché è un video molto importante e non potevamo farne a meno sta dentro pienamente questa nostra discussione è il video di Aida Touma Suleman parlamentare del partito comunista israeliano e che è stata sospesa dal dal suo ruolo di parlamentare per aver chiesto naturalmente il cessato il fuoco quindi ci pare rilevante proiettarlo perché sta pienamente nella discussione che abbiamo fatto e poi la parola a Maurizio Scerbo segretario di rifondazione ma prima di Maurizio Scerbo una breve conclusione della segretaria della federazione di Roma che ha organizzato la federazione di Roma questa iniziativa mi pare molto partecipata molto opportuna e diciamo densa di contenuti per cui per quanto mi riguarda non posso che ringraziare la federazione di Roma e la segretaria che lo rappresenta di Roma Buongiorno Buongiorno ladies and gentlemen I really would like to apologize that I'm not joining the webinar with you and I'm sending a recorded message it's just a good excuse we are at the same time that you are listening to my greetings and my speech we will be demonstrating in Tel Aviv against the war for the first time after 42 days we are allowed to demonstrate against this horrible horrible war and I didn't want to miss that chance as we are in normal situation and in general we have a very clear message and principle that we always obey that we are against any war any war will never bring us neither security nor peace and we should be a very strong voice against this war and any war many people think that this war we should not be saying anything against it and of course there is a very huge crackdown against the Palestinian community inside Israel and all the democratic Jewish forces who believe that this is not the solution under them this crackdown is actually relying on the fact that horrible crimes have been committed on the 7th of October and that give the Israeli government and army first to give them the right to revenge and give them the right to destroy Hamas totally and the only way to do it is by attacking Gaza and that's why all the voices by the claim of the government and all the arms governmental arms if it is police or shabak all the voices that are against the war should be silenced and brutally silenced and I will explain that later I have to start with the explaining first of all that we have been always in Hadash and in the communist party we have been always against bringing the civilians into the cycles of bloodshed or militant actions we always insisted that civilians especially children and women and elderly should be out of that cycle of violence but for our regret on the 7th of October many civilians 1,300 almost 1,300 civilians although there were also army among them soldiers but many and hundreds of civilians were killed in that attack and we condemned the fact that civilians are killed and we condemned all the atrocities that came with that killing but yet we do not legitimize this horrible war that is going on for 42 days the Gazam people are under shelling under bombard and under a humanitarian crisis that is only evolving and deteriorating children around 5,000 dozen children have been killed till now of course there are also women and elderly and all of them are civilians we grieve and we feel very angry also because we understand that this war that is perpetrated under the claim of revenge is not going to bring any better future on the contrary it is our claim that the Netanyahu government is using the legitimate and the deep grief and anger that is an insecurity that is evolving since the 7th of October among Israelis and turning it to a war that actually is a war on the Gaza and on the Palestinians and it is an implementation of deep ideology and plans that existed even before the 7th of October nowadays in Israel the hate speech and against any Palestinian and Arab is very legitimate and it is taken as a for granted speech and crackdown on democratic issues like freedom of speech and freedom of political organizing is also taken as something for granted and legitimate we can see it very clearly when it comes to those who are against the war the main block among them is the Palestinian community inside Israel and of course the Jewish democratic forces who are part of our comrades who are part of this struggle to stop the war and to try to save as much lives as we can we believe that because it is deep plans that existed in the past we can see how it is the calls for transfer for ethnic cleansing for genocide even is becoming more and more normal MKs in the parliament members of parliament can speak about whipping on Gaza from the ground or setting Gaza on fire killing all of them as a normal thing but while when Ida bring testimonies in a tweet about what's happening in a hospital I'm immediately silenced by suspending me for two months from the Knesset only because I tweeted quoting testimonies that were published in the international media very clearly and nobody is allowed these days even to say what different information than what is delivered and what is said by the spokesman of the IDF I'm saying this because I believe they want to oppress all the voices that also trying to bring attention to what is happening in the West Bank another ethnic cleansing process is going implemented by the settlers protected by the army look at what is happening in area C in Jordan Valley where more than 15 Bedouin localities were evacuated under the threat of weapons and violence by the settlers and they have they are now taking over the land and the sheeps that existed for the Palestinians the different rides every night to all of towns and villages that are in the West Bank if it is Ramallah Nablus Janine and more than 186 Palestinians were killed since the beginning of this war in the West Bank more than 3,000 people were arrested since the beginning of the war and put in prison and we keep hearing about very brutal violent and atrocities that are done to them when they are arrested inside Israel we the Palestinian citizens of Israel are not allowed to speak out hundreds of Palestinian citizens of Israel are interrogated for any post that they might assume that post in Facebook or a tweet that show a little bit of apathy and sympathy to the suffering of the Gazan people or talking about stopping the war everything can lead to be accused of solidarity or supporting of Hamas we have around 60 people who already are charged and going to court because of things that they published even publishing a version of the Quran might lead you to be arrested and interrogated there is a terror and the fear that is controlling our lives people Jewish colleagues in hospitals and universities are becoming kind of informer part of right wing groups who keep tracking whatever Palestinians are publishing on the social media and they inform the police and different groups who are working look what happened to me after I tweeted 24 hour after my tweet about a Shifa hospital there were 2,500 complaints to the ethics committee in the Knesset something which is unprecedented and the decision of the ethics committee is unprecedented because as you know as a member of Knesset I have my immunity the immunity that was parliamentarian immunity that was given to me in order to be able to speak out and have margins and spheres of spaces of freedom of speech that is way beyond what a normal citizen will have but this did not help actually what was how I understand this decision that is you are not allowed to speak out unless you repeat our messages and the other thing is that your parliamentarian immunity I feel like my parliamentarian immunity gives me even less what is given to a normal or average Jewish citizen in Israel but still beside the fact that we are suspended I am suspended beside the fact that we were not allowed to demonstrate we went to court and we kept challenging until we got the right now to vote while we are speaking while I'm speaking to you to demonstrate we are demonstrating now in Tel Aviv we will keep that voice because we do not believe we are we do not believe in wars we are demanding now to stop immediately the war and to a political diplomatic solution that can bring peace and security of course I will not even think about forgetting our major call also to bring back the kidnapped Israeli civilian kidnaps we are asking for an exchange deal that will bring people to their homes on both sides thank you again I hope that I managed to bring our voice our message to you I hope that you will be part of the pressure put on the different sides involved in this war to stop immediately this war and to bring humanitarian aid to Gazan people and freedom to the Palestinian people thank you un video molto importante passo la parola a Elena Mazzoni sì io sarò scusate veramente rapidissima non so se si sente veramente rapidissima perché abbiamo davvero vissuto un pomeriggio molto intenso e ci sono ancora delle degli appuntamenti perché noi avevamo previsto anche dei contributi video di altri due parlamentari europei di The Left che sono Claire Daly e Mick Wallace e poi un contributo video da parte di Romana Rubeu che è la scrittrice e redattrice capo di The Palestine Chronicle allora questi video comunque noi li manderemo adesso dopo eh l'intervento del segretario nazionale di rifondazione comunista Maurizio Cerbo e eh insieme ovviamente ci verrà proiettato anche il documentario di Eliana Riva di cui parlavo prima vi ricordo sempre che fuori c'è il buffet quindi non abbiamo esigenza di tornare a casa tanto presto possiamo cenare con il buffet delle compagnie e dei compagni della comunità palestinese di Roma e del Lazio e io voglio ringraziare perché non mi va di farlo dopo eh per questa iniziativa oltre a transforme i giovani comunisti e le giovani comuniste anche chi ha permesso che questa cosa funzionasse ovviamente con le difficoltà solide però eh niente è perfetto meno che mai noi da remoto e quindi ringrazio la responsabile comunicazione di rifondazione comunista Anna Camposampiero e Roberto Ciccarelli che fa parte anche lui del gruppo comunicazione che ha curato la la regia e poi il compagno Fabio Amato senza il quale ovviamente tutto questo lavoro eh sui parlamentari europei e questo lavoro internazionale non sarebbe stato possibile quindi voi vedete noi qui ma c'è un grande lavoro di tutte e di tutti dietro e grazie alla federazione romana perché oggi veramente ha dato prova di saper lavorare molto bene do la parola a questo punto al segretario nazionale Maurizio Acerbo non dico sarò breve però cercherò di esserlo innanzitutto grazie alle compagnie e compagni per aver organizzato questa iniziativa inizio esprimendo un elemento di amarezza un tempo in questo paese iniziative come queste sarebbero state organizzate già da settimane in tutte le case del popolo in tutte le sedi dei sindacati in tutte le sedi dei partiti democratici di questo paese invece abbiamo assistito in queste settimane non riguarda noi perché io non accetto la notte in cui tutte le vacche sono nere noi di Rifondazione e di Unione Popolare nel primo momento ci siamo mobilitati purtroppo l'Italia democratica e antifascista non lo ha fatto le manifestazioni che ci sono state sono state indette dalla comunità palestinese e dobbiamo ringraziarla per averci dato la possibilità di scendere in piazza come democratiche e democratici italiani perché altrimenti avremmo assistito al fatto che l'intero arco parlamentare quasi tutto, ahimè, quasi tutto si è ritrovato sotto l'arco di Tito a manifestare a sostegno del governo di Netanyahu era già accaduto durante l'operazione Piombo Fusso quando noi ci ritrovammo in piazza con la comunità palestinese mentre su un palco l'opposizione il governo, tutte le forze politiche sventolavano la bandiera di Israele mentre Israele bombardava Gaza non è la prima volta che accade questa involuzione del nostro paese mostra come c'è un nesso tra guerra imperialismo, colonialismo e fine della sinistra nel nostro paese e crisi della democrazia nel nostro paese in tutta Europa perché quello che accade in Italia dove arriviamo alla follia lo dico senza polemica ma sentire che a una manifestazione del più grande partito dell'opposizione parlamentare di questo paese si dica si venga con le bagniere ma non si porti la bagniera della Palestina mentre si bombarda Gaza io credo che è una cosa gravissima lo dico senza polemica perché io sono convinto che la maggior parte delle persone in quella piazza parteciperebbero insieme a me a una manifestazione per lo stop al bombardamento di Gaza per il cessate il fuoco e per riconoscimento dei diritti del popolo palestinese in queste ore il governo di Spagna in cui fortunatamente la sinistra radicale che in Italia è fuori del Parlamento ha una forza che nel nostro paese non ha più annunciato che riconoscerà lo Stato di Palestina guardate lo avete detto in tantissimi interventi quanto sia problematica una dichiarazione del genere nel momento in cui la soluzione due popoli due stati è stata di fatto smontata nell'ultimo ventennio con un'azione costante trasformandola in una beffa che tra l'altro ha delegittimato io credo agli occhi dello stesso popolo palestinese chi come l'Organizzazione per la Liberazione della Palestina aveva scelto dopo aver combattuto dopo aver sopportato Settembre Nero i massacri dalla Giordania fino a Beirut aver sopportato tutto quello che conosciamo perché qui dentro ci sono compagni e compagni che sono sempre stati solidari con la causa palestinese ma due stati due popoli si è trasformata in una beffa si è trasformata io capisco benissimo quando i giovani palestinesi con cui ho con orgoglio manifestato perché il popolo palestinese che decide se vuole lottare per la soluzione di due popoli di due stati se vuole lottare per una soluzione di un unico stato binazionale eccetera non siamo noi noi possiamo essere solidali solidali come lo siamo stati e io lo dico intervengo con un certo orgoglio perché tante volte negli ultimi vent'anni mi hanno detto tanti compagni e compagne perché vi ostinate a dirvi comuniste io sono orgoglioso di poter dire che nel Parlamento israeliano ci sono dei comunisti e delle comuniste che si fanno mettere fuori dal Parlamento perché viene prima l'internazionale e poi qualsiasi nazionalismo e tra di loro non ci sono solo comunisti arabi israeliani ci sono comunisti ebrei israeliani che sono uniti come lo sono tantissimi che in questo momento si stanno mobilitando Raul ha ricordato con parole sacrosante la nostra opposizione all'antisemitismo e io lo dico è un pericolo che io sento perché in questa epoca noi abbiamo polarizzazioni roze e reazionarie come accade con la guerra in Ucraina dove c'è chi tifa per una parte e per un'altra la nostra parte è la parte della pace dell'internazionalismo della relazione tra i popoli fondata sul rispetto reciproco sulla convivenza quindi noi abbiamo vissuto con dolore quanto sta accadendo però ci sono dei principi che vanno mantenuti esiste un diritto di resistenza dei popoli oppressi l'Italia antifascista realizzò il più grande quello che è considerato persino dai critici cinematografici americani il più importante film politico della storia la battaglia di Algeri non perdiamo questa memoria noi possiamo criticare noi condanniamo gli attacchi contro i civili io sono contento che l'abbiano fatto anche i compagni palestinesi intervenendo ma non si può negare al popolo palestinese il diritto di lottare poi ci si confronta sulle forme di lotta si critica il terrorismo tutto giù ma non si può accettare una narrazione per cui si usa la parola terrorismo con lo stesso utilizzo con cui si usa la parola l'espressione nuovo Hitler si crea il Satana non esiste più una parte con cui ti devi confrontare c'è qualcuno da distruggere e per cui bisogna bombardare Gaza all'infinito fino a che non sarà distrutto Mass noi non possiamo essere complici di questa cosa anche perché tra l'altro io ritengo che alla fine di questa operazione magari i sostenitori e i simpatizzanti di Hamas aumenteranno dopo una strage e un massacro del genere e siccome io penso da comunista che l'islam politico come scriveva Samir Ramin sia un pericolo sia una forza reazionaria e ho ancora davanti a me l'immagine eravamo io la compagna Anna Composampiero per rifondazione comunista del congresso dell'HDP del partito della sinistra kurda quando è intervenuta la compagna Leila Khaled dal nome del popolo palestinese tutti i compagni e le compagne kurde in quel palazzetto dello sport si sono alzati in piedi salutando una loro compagna ecco io credo che il Mazz l'abbia detto noi dobbiamo lottare per la democratizzazione del Medio Oriente la soluzione della questione palestinese come della questione kurda e dentro la democratizzazione del Medio Oriente e il nemico sta da un'altra parte io trovo incredibile che il Qatar finanzia e ospita Mas ma al tempo stesso è considerato miglior alleato non nato questa è la categoria degli Stati Uniti d'America e partner strategico dell'Unione Europea qualcosa non va in tutta questa storia allora io credo che noi non possiamo non sentirci corresponsabili del fatto che dopo 42 giorni il nostro paese il nostro governo il nostro Parlamento non hanno ancora condannato il bombardamento che è in atto incessante di Gaza sulla popolazione civile è una nostra responsabilità e io credo che noi dobbiamo fare di tutto perché ci sia in Italia una mobilitazione all'altezza della nostra storia e della nostra tradizione democratica e lo dico questa è una responsabilità non solo dei partiti ma anche delle organizzazioni di massa dell'Associazione Nazionale Partigiana d'Italia della CGL non dico la CISL perché non fa manco sciopero dell'Arci di tutti delle reti pacifiste io lo dico compagni e compagnie Amnesty International è una cosa ed è giusto che Amnesty International dica manifestiamo senza bagniere io credo che noi abbiamo il dovere di scendere in piazza come Italia democratica con le bagniere della Palestina e la bagniera della pace per il cessato il fuoco immediato e anzi approfitto di questa occasione per dire che sarebbe il caso che magari da questa iniziativa usciamo nei prossimi giorni promuovendo un appello in cui a partire dalla Perugia sì sì ma io dico anche una manifestazione qui a Roma ci sia di tutta l'Italia una manifestazione perché io lo ricordo a Parigi la manifestazione è stata indetta dai sindacati a Londra dalla coalizione Stop War Coalition e poi aderisci partecipa alla comunità palestinese dove è finita l'Italia democratica l'Italia antifascista l'Italia esiste questo dobbiamo affrontare tutti quanti insieme perché non si possono fare calcoli politicisti non diamo fastidio al PD perché c'è Fassino che in televisione dichiara che non bisogna rompere la grande unità che si è creata nel sostegno ad Israele beh chi vuole bene al PD io non so tra questi ma chi vuole bene al PD dia una mano a fare in modo che la posizione di Fassino diventi minoritaria e che perlomeno l'Italia si attesti sulle posizioni che aveva durante la prima Repubblica quando tutti i partiti democratici anche quelli che noi combattevamo sulla questione palestinese tenavano una posizione incommensurabile con quella attuale ci sono alcune cose che concludo che noi secondo me non dobbiamo stancarci di ripetere e la prima è questa cosa del vocabolario appoggio incondizionato che è stato espresso dal nostro governo dal nostro Parlamento e dall'Unione Europea a Netanyahu al governo israeliano ha fatto nel nostro paese un paese complice di quello che sta accadendo perché l'espressione appoggio incondizionato significa fate quello che vi pare noi comunque vi appoggeremo ora io lo dico noi dei rischi li corriamo la campagna BDS è una cosa sacrosanta domani ci sarà l'assemblea portiamola avanti ma c'è una cosa che dobbiamo chiedere immediatamente al nostro governo come è possibile che noi abbiamo rinunciato a comprare il gas dalla Russia perché sarebbero cattivi e abbiamo un accordo di cooperazione militare con lo Stato di Israele si può chiedere che l'Italia sospenda questo accordo con lo Stato di Israele fino a che non vengono approcate le risoluzioni dell'ONU possiamo chiedere compagni e compagni io lo ripeto che nel nostro paese si apra una riflessione anche su su quanto sta accadendo in relazione alla evoluzione dell'Europa lo diceva Musacchio ma guardate che noi rischiamo in maniera fortissima un paradosso io lo vidi tanti anni fa andai a Budapest per un'iniziativa era poco prima che chiudessero il regime di Orban l'archivio di uno dei più grandi intellettuali comunisti marxisti ed ebrei nel novecento si chiamava Gheorghi Lukash e tutta Budapest era piena di manifesti sei per tre in cui Orban dava la mano a Netanyahu allora io dico ma è possibile che non siete in grado di prendere le distanze da Israele neanche quando c'è un fascista come Netanyahu al governo questo a me preoccupa perché lo stesso motivo per cui l'Unione Europea ha sdegalato il battaglione a Zoff ieri finché ci andava d'accordo sdoganava anche tutto ciò che accadeva in Russia e lo stesso motivo per cui l'Unione Europea ha sdoganato Giorgia Meloni come se fosse una sincera democratica se sei in linea sulle politiche di guerra neocolonialiste e neoimperialiste il problema dell'antifascismo in Europa non esiste e questo ce lo dobbiamo dire e quindi essere solidali col popolo palestinese e tutt'uno con essere solidali con chi dentro Israele si mobilita con coraggio contro la guerra contro l'occupazione contro il regime dell'apartheid io lo dico ho sentito dire che parlare di apartheid per quanto riguarda la situazione in Palestina sarebbe antisemita ma scusate è un'espressione che usa Amnesty International non le organizzazioni fasciste che quasi tutte tra l'altro oramai stanno a sostegno del governo israeliano e allora noi ricordiamoci una cosa per gli Stati Uniti d'America il Sudafrica razzista è stato una democrazia quasi fino all'ultimo quando qui in Europa noi boicottavamo il Sudafrica razzista gli Stati Uniti sostenevano il regime dell'apartheid lo faceva anche la Gran Bretagna della Tatch e ricordo che uno degli argomenti usati anche allora in Italia soltanto da Indro Montanelli era che il Sudafrica comunque era l'unica democrazia in come si chiama in Africa perché lì si votava eccetera ma era la democrazia dei bianchi sudafricani non perdiamo la memoria e credo come comunista e comunisti che dobbiamo tornare al nostro al meglio della nostra tradizione non accettare di essere arruolati dalla missione civilizzatrice dell'Occidente questa missione civilizzatrice non ci appartiene quando l'Italia fascista invase l'Etiopia i comunisti andarono a combattere dalla parte dell'Etiopia quando l'Italia fascista invase la Spagna i comunisti stavano con la Spagna repubblicana non allora compagni e compagni noi abbiamo un lavoro di ricostruzione di categorie internazionaliste ma anche di comune umanità loro vogliono un mondo in cui che è cominciato nel 1991 in cui ci scandiamo tra serbi croati e bosniaci poi abbiamo cominciato tra cristiani e musulmani eccetera eccetera palestinesi e israeliani noi dobbiamo rifiutare e credo che le cose più belle più giuste che sono accadute in queste settimane sono venute oltre dalla incredibile resistenza al popolo palestinese dall'esempio che hanno dato le forze di sinistra e le persone di sinistra israeliane che hanno detto persino parenti di vittime del 7 ottobre che hanno scritto non vogliamo questa vendetta hanno loro avuto questa forza morale mentre i politicanti di casa nostra fanno la gara a mostrarsi ubbidienti a Washington e a Tel Aviv perché oramai se critichi Tel Aviv non sei credito a Washington e non sei più legittimato a governare un paese europeo noi a tutto questo ci dobbiamo opporre e lo dobbiamo fare cercando però di non perdere le categorie della storia non è responsabilità del popolo europeo se a un certo punto della sua storia ha cercato rifugio in uno stato o nazione no è stata l'Europa e anche devo dire gli Stati Uniti che non mancarono con i loro capitalisti di finanziare sia Mussolini che Hitler a massacrare a produrre l'antisemitismo e poi a creare lo sterminio l'orocasto la Shoah non sono stati i sud del mondo no quelli lo avevano già subito il loro olocausto che non viene insegnato a sufficienza nelle nostre scuole perché come scrive il grande storico Enzo Traverso tutti i metodi usati in Europa da Hitler erano reimportati dalle colonie occidentali in tutto il sud globale per quattro secoli quei metodi sono stati industrializzati in Europa in un progetto folle ora io credo che dobbiamo essere sempre in prima fila nella lotta contro l'antisemitismo e anche analizzare parola per parola quello che diciamo perché qui in Europa l'antisemitismo si è sviluppato e l'antisemitismo ha avuto radici e un messaggio che si presentava in forma radicale rivoluzionaria di finto anticapitalismo di finto anticapitalismo ecco quindi noi dobbiamo avere la lucidità di combattere quando l'antimperialismo si presenta in queste forme e ci vuole tanta da parte nostra capacità di ragionarci sopra di sezionare il nostro linguaggio il nostro comportamento ma quello che non possiamo fare è quello che sta facendo oggi la Germania che dopo aver la colpa storica dello sterminio adesso vieta di manifestare con le bagniere palestinesi perché sarebbero le bagniere terroristi sbagliavano allora e sbagliano oggi io credo compagni e compagni che dobbiamo cercare di mantenere la coerenza dei principi umanitari che sono e io lo dico perché molto spesso noi tendiamo a dire che una cosa è politica poi c'è la questione etica e umanitaria no noi facciamo politica perché crediamo nella futura umanità dove non ci si scanni né per i profitti del capitale né per qualche religione e neanche per l'idea di nazione che sono tutte cose importanti ma che vengono dopo il rispetto della vita e della dignità di ogni essere umano io credo che abbiamo bisogno nel nostro paese di sviluppare un'iniziativa politica culturale ma anche di campagna militante che abbia la sua continuità per non continuare a essere complici non solo del massacro e del giocidio in corso a Gaza ma anche della definitivamente scoparsa della democrazia in Europa mi raccomando non lasciate la sala che c'è la proiezione del documentario per chi vuole rimanere il resto dei video scusate solo un attimo li metteremo comunque su Facebook quindi li troverete comunque e vi ricordo che fuori abbiamo il buffet a sottoscrizione libera grazie ciao ragazzi mi dispiace di non essere presente di persona a Roma ma amando solidarietta e il migliore auguri a Roma e es con genocidale war mongers. Il nostro parliamento in Brussels, Roberta Metzola, il Presidente, convene un momento a commemorare i victimei dei terroristi attacchi a 7 settembre. And, of course, ordinary people everywhere commiserate and sympathize with the loss of civilian life anyway. But for that solemn moment to exclude the Palestinian victims was a hurt and an injury that remains to this day. She made it worse by even saying at that event that that day was no time for whataboutism, no place to remember the Palestinian victims. And yet here we are, weeks later, when the Palestinian bodies mound one on top of the other, hundreds buried in graves in hospitals, and the European Parliament still cannot convene a solemn moment for Palestinian victims. What does that say to the Palestinian diaspora all over Europe? What does it say to the Muslims all over Europe and the world? And what does it say to European citizens who are looking on in horror, many of whom believed the hype around the European Union, that it actually stood for democracy, rule of law and values? Those days are well gone. They are well over. And the people in power have shown themselves up to be utterly bereft of any right to lecture anybody else on these things. So where does this leave us, the people of Europe, in this battle to secure justice and peace in Palestine? Well, number one, we have to redouble our efforts to call a ceasefire. It's obvious now that the people in power in Europe don't want a ceasefire. Palestinian lives cost less to them. They are bereft of humanity in that regard. So we need to do more. I, as a representative of Ireland, a neutral country, I'm glad that my country is one of two in the European Council that has called for a ceasefire. But that's not enough. We need to do a lot more than that. We should be ratcheting up the calls for the absolute ostracization of Israel from the international community. We want no an immediate arms embargo, a suspension of the EU Israel Association agreement. We want the support of the boycott divest movement as a people led initiative to force a change. But these are dark days and many people feel very demoralized. But we have to take hope. And the one hope out of this situation is that the people of the world are off their knees. And in that are the seeds of a resolution of this issue, an issue which goes back to the NACPA, to the driving out, the catastrophe of driving and murdering Palestinians off their land. It's very obvious now that those who keep talking about Israel's right to self-defense and those who keep talking about a two-state solution are really just enabling the continuation of Israeli genocide. And I don't use that word lightly. I use it in the sense that it is meant. So we have to have a different solution, which for me is a one-state solution, the dismantling of the apartheid state of Israel into a secular equal society where all voices are respected. But first, we've got to secure a ceasefire. The block to that is the European Union and the US, which are enabling through their actions, through their arms and through their words, the continued ethnic cleansing in Gaza. We cannot allow that to happen. We have to go from this event here to redouble our efforts, to speak out, to organize out, to particularly organize the labor and trade union movement, the power of organized workers who can stop in their tracks, the movement of munitions, the movement of support for Israel. And only through this can we have a peaceful and just settlement for Palestine to end the 75 years of oppression that have got us to this horrible day. It is only the failure of politics and the turning of a blind eye by the international community, which has enabled Israel to get to the point that it has got to today. But let that be the beginning of the end. No more out of this horror. A new just equal state will emerge. Israeli bombardment of the Gaza Strip is going on for 40 days and the atrocities continue to mount. Over 5,000 children are dead, over 3,000 women, and yet the EU struggles to condemn Israel's behavior. Only today, the European Union High Representative for Foreign Affairs, Joseph Burrell, he said, the EU has condemned the actions of Hamas in the strongest possible terms and is unequivocal about Israel's right to defend itself. Now, he was sitting with Israel's foreign minister at the time. But he has never still been able to say that he condemns the behavior of Israel. He can only condemn the behavior of Hamas. Israel says it's fighting a war with Hamas. The mainstream media across Europe says that Israel is fighting a war with Hamas. The European Union says that Israel is fighting a war with Hamas. Well, according to Israel's own figures, they've killed 60 Hamas fighters. since their attack on Gaza Strip. 60. They've killed over 5,000 children. They've killed over 3,000 women. And they've killed 60 Hamas fighters. And their war is with Hamas? No, it isn't. They are at war with the Palestinian people. They are committing war crimes against the Palestinian people. They are forcing Palestinians to leave the Northern Strip to go south in Gaza. That's called ethnic cleansing. They cut off water and fuel and food at the beginning. That's called collective punishment. They're bombing hospitals, churches, apartment blocks, ambulances. These are all war crimes. And the European Union isn't able to say it. What's wrong with them? The people of Europe know that Israel is committing war crimes. and they know they're doing so with the complicity and support of a European Union. How are they ever going to talk about law and order, human rights, humanitarian law, international law again, when they are supporting Israeli war crimes? How are they going to do it? How are they going to do it? I don't understand where they're going. The people of Europe are shocked. They're taken to the streets in their millions. There have been millions of people on the streets of Europe horrified at the genocide, the ethnic cleansing taking place against the people of Palestine. But the colonialists are standing together. The white race, the North Americans, the Europeans, the UK. They're standing together with the colonialist Israel. And they say that the lives of Palestinians matter. But they obviously don't. They don't care about the Palestinians. That's why they don't want the ceasefire. Because if you cared about the fact that there was 5,000 children dead and 3,000 women dead, if you thought that that was not nice and that was bad, wouldn't you call for a ceasefire? Because if you don't call for a ceasefire, it means you're happy for the atrocities to continue. Israel is a far right, lawless, apartheid regime. And they have the unconditional support of the European Union. What happened to our European values? What were those values? What are those values? What are they going to be in the future? The people of Europe and America, they have to challenge their political class and their elites more and more. And pressure them, force them to actually show some humanity and show some respect for the people of Palestine, who have been slaughtered by this Israeli regime. It's just too bad. Thank you. Thank you very much. Thank you. Thank you for inviting me. ma soprattutto vi ringrazio di aver organizzato un evento in cui il fine è quello di parlare di Palestina, è quello di parlare di quanto sta accadendo a Gaza in queste ore, in queste settimane, in questi mesi ormai, ma soprattutto di parlarne in un'ottica che non si limiti ad analizzare i fatti e gli eventi a partire dal 7 ottobre. Come ha ricordato il segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres, i fatti del 7 ottobre non sono accaduti, lui dice, in un vacuum, in un vuoto, sono accaduti perché c'è una storia, una storia lunga, molti anni, di cui brevemente potremo accennare questa sera. Una storia che non inizia il 7 ottobre, non inizia nel 2006-2007 con l'imposizione dell'assedio sulla striscia di Gaza, che ricordiamo andava a chiudere la striscia di Gaza sui quattro lati, praticamente rendendola quella che è stata definita la più grande prigione a cielo aperto e ogni tanto reiterando interventi militari massicci, certo non dell'entità che stiamo testimoniando in questi giorni, ma comunque interventi militari sanguinosissimi, anche in termini non solo ovviamente di vita umane, ma anche in termini di ricostruzione di infrastrutture in un territorio che, ripeto, è sottoposto a un rigido blocco che comunque già contravveniva al diritto internazionale e limitava i diritti di base del popolo palestinese. Una storia che non inizia come spesso viene volutamente fatto passare soltanto nel 1967 con l'occupazione di tutto il territorio della Palestina storica, sicuramente quello è un passaggio fondamentale, quello che i palestinesi ricordano come Nexa, cioè la ricaduta, in cui appunto Israele nella cosiddetta guerra dei sei giorni prende il possesso di tutta la, si occupa militarmente tutto il territorio della Palestina storica, incluso Gaza, che ricordo è ancora territorio occupato secondo il diritto internazionale, sebbene Israele voglia far credere che dal 2005 si è lavato le mani semplicemente perché ha ritirato le truppe, oggi le vediamo invece sul territorio di Gaza, ma aveva ritirato le truppe soltanto per motivi strumentali, ma il territorio di Gaza è a tutti gli effetti, secondo la comunità internazionale, un territorio ancora occupato. Non inizia quindi nel 1967, inizia ancora prima, inizia almeno nel 1948 con quella che i palestinesi ricordano come Nekba e che è ormai un fatto di cui non dovremmo neanche parlare perché è riconosciuto dalle accademie di tutto il mondo, devo dire in questo l'Italia fa fatica molto spesso a stare al passo con quanto accade a livello accademico in tutto il mondo, i testi prodotti a testimonianza e a raccontare la Nekba sono ormai molteplici dal famosissimo testo dello storico israeliano e il professor Ilan Pappe, la polizia etnica della Palestina, ma anche testi di studiosi e intellettuali palestinesi quali Rada Karmi ci illustrano proprio questa realtà della Nekba, ovvero l'esodo forzato, iniziato appunto nel 1948, della popolazione nativa palestinese. All'epoca parliamo di circa un milione di persone che furono violentemente cacciate dalla loro terra. Questa Nekba che è stata più volte negata da Israele, pensate che Israele ha una legge che vieta di parlare della Nekba, si può essere arrestati semplicemente per averla menzionata, in realtà in questi giorni assistiamo a una rivendicazione della Nekba da parte di ministri israeliani che parlano apertamente, che invocano una seconda Nekba, vogliono l'esodo forzato, vogliono la cacciata del popolo palestinese dalla striscia di Gaza. Il ministro Bezalels Motric, di estrema destra Bezalels Motric, ne ha parlato chiaramente qualche giorno fa, dicendo che l'unica soluzione umanitaria per Gaza è quella che lui in un modo veramente di infima qualità chiama la migrazione volontaria. Non si tratta di migrazione volontaria, si tratta di esodo forzato nel migliore dei casi e di genocidio a cui stiamo assistendo in queste ore. Queste ovviamente non sono parole mie ma sono parole di moltissimi esperti di diritto internazionale. Per quale motivo la sistematica violazione dei diritti dei palestinesi ha sempre accompagnato il progetto sionista? Perché nonostante il mito di fondazione di Israele, che devo dire ha convinto moltissimi anche nelle sinistre europee, addirittura c'era il mito quasi del socialismo finalmente realizzato, questo mito che è stato molto fortemente e coscientemente veicolato proprio perché c'era bisogno di mascherare quella che era invece a tutti gli effetti e che ormai, ripeto, è riconosciuta come tale, una operazione coloniale e quella che il professore Lampappe definisce una operazione coloniale di insediamento. Spiace infatti verificare che ancora in alcuni ambienti della sinistra europea e sicuramente ispirati anche dalla sinistra sionista cosiddetta liberale, il soft zionist, non vogliano riconoscere, non vogliano associare Israele a un'esperienza coloniale. Quale invece è? Perché il progetto coloniale di insediamento ha da sempre mirato al graduale annullamento, alla graduale rimozione della popolazione nativa palestinese, sia fisicamente, sia attraverso la negazione di diritti fondamentali, sia attraverso l'implementazione di quella che non io, ma moltissimi gruppi, tra cui Amnesty International e Human Rights Watch, hanno definito un sistema di apartheid, quindi di segregazione razziale, sia con l'eliminazione fisica dei palestinesi, sia con operazioni di espropriazione. Grazie a tutti e a tutti, chiudiamo qui la diretta e buona serata.